e ci siamo 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 magicamente live buonasera a tutti ragazzi buonasera mauro e soprattutto ragazzi buonasera adrian buonasera ciao piacere di essere qui con voi che fissa tu non hai idea quanto stiamo tutti in fissa che tu stai con noi questa sera perché questa sera dobbiamo parlare di una cosa di cui non capiamo un cazzo perché mauro ovviamente un super esperto dal punto di vista cinematografico per quanto riguarda il film in questione di questa sera che ragazzi vi ricorda in testellar perché venerdì è uscito il video con mauro e marco del come cazzo hanno fatto con uno speciale per interstellar e poi però in interstellar si parla di scienza si parla di spazio e per quello tipo alziamo super le mani e c'è adrian che è super esperto in questa cosa mauro era praticamente devono chiamare kip torn e subito sotto c'era adrian come come consulente per interstellar esatto c'era di da fare allora hanno scelto kip torn che indossa delle camicie molto più belle perché lui c'ha delle cioè chi ha visto il video lo saprà c'ha delle camicie pazzesche nel senso delle camicie incredibili detto ciò io diciamo che prima di come dire prima di entrare nel nel vivo aspettiamo che si riempia un po volevo chiedere ad adrian tu che cosa ne pensi di interstellar in generale nel senso quando l'hai visto cosa cosa ti è parso allora io sarò andato al cinema appena possibile perché ovviamente già dal trailer se mi metti in un solo film astronauti viaggi su altri pianeti a buchi neri ero ero già felicissimo sono andato a vederlo e appena tornato a casa mi hanno chiamato tantissimi per dirmi adrian dobbiamo tornare al cinema così ci spieghi che cazzo abbiamo visto solo nella prima nel primo mese l'ho visto quattro volte con gruppi di amici che mi portavano insomma a vederlo con con loro è stato molto bello è stato molto 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 bello ma più per l'esperienza anche oltre al film e ti pagavano almeno il biglietto ogni volta che ti chiedevano di andare con loro sì 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 quello sì allora adria noi ovviamente ti conosciamo intanto ringrazio cioschio che ha regalato tre abbonamenti e ringrazio il santone dello svapo che appena arrivato con un raid e altri 55 tenti adrian io non so se lo conosci il santone dello svapo è un mio amico un canale youtube e lui ti adora e quindi mi ha detto salutamelo e io te lo saluto grazie grazie per quei tre quattro che stanno qua in mezzo che non ti conoscono perché sicuramente saranno pochissimi che non ti conoscono ti dispiacerebbe presentarti un po al a quei poveretti che non sanno chi tu sia no ma anzi anzi mi stupisco ancora no del fatto che qualcuno mi conosce perché questo argomento solitamente abbastanza di nicchia c'è i momenti in cui qualcuno parte verso lo spazio come è appena successo in cui tutti si accorgono del del campo dell'esposizione spaziale però dopo torna piano piano verso gli angoli di youtube e io mi chiamo adrian fartade e ho una formazione in storia e filosofia mi sono occupato di storia e filosofia della scienza e poi della storia dell'astronomia e dell'esplorazione spaziale e appunto negli anni in particolare mi sono specializzato nella storia dell'esplorazione spaziale robotica e umana e nel tempo dato che per l'altra mia formazione sono attore teatrale ho unito queste due cose e ho iniziato a fare spettacoli e raccontare grandi storie di come abbiamo scoperto cose riguardo all'astronomia o come abbiamo fatto a viaggiare su altri mondi in modo più 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 interattivo e questo mi ha portato già da quando ero allo superiore a fare esperimenti con piattaforme online il primo video che avevo caricato online ora questo dimostra quanto sono vecchio fu su una piattaforma che forse qualcuno si ricorda dai vecchi manoscritti che si chiamava bastardi dentro e io avevo il diario a un certo punto sì sì avevano un sito dove di solito studenti caricavano cazzate che facevano a scuola quindi si lanciavano sedie o altre cose del genere e io ho caricato un video in cui ero in camice e facevo esperimenti nel laboratorio di chimica con piccole statuine che avevo fatto dai professori in gesso per vedere in quali tipi di sostanze si sciogliono spiegando perché il gesso si scioglie in una sostanza o in un'altra cosa così però quindi ero sempre stato attratto dall'idea di fare cose con un video e poi anni dopo è arrivato youtube e quindi è stato amore subito quindi ragazzi adrian ha un testone enorme praticamente cioè una cosa incredibile per chi non lo sapesse sempre poveri quattro disgraziati che non lo sanno questo personaggio qua sotto è responsabile di quello che credo sia il record di twitch italia cioè lui è arrivato prima live 40 mila persone cioè proprio pam non l'ha fatto neanche apposta perché non gli funzionava un'altra cosa esatto cioè proprio scusate per me e sapete quando uno arriva in una nuova piattaforma dice scusate permesso di solito non se lo fila nessuno lui invece è arrivato zitto zitto pam e subito in 40 mila spaccato twitch perché appunto è andato in live con la partenza del dragon dello space x giusto sì sì esatto che è stato uno dei momenti più più belli degli ultimi anni dell'esplosione spaziale appunto perché erano nove anni quest'anno da quando una missione spaziale umana non partiva da cap caravano dal kennedy space center dalla stessa rampa da cui sono partiti non solo i shuttle ma le missioni per la luna tanta emozione tanto romanticismo intorno mai anche la più avanzata navicella spaziale che gli umani hanno mai creato fino ad oggi di gran lunga fa cose che a tempi altre navicelle neanche sognavano di poter fare da attraccare in maniera completamente autonoma con intelligenza artificiale a riscendere calibrandosi completamente da sola fa un migliore di cose oltre ad essere dentro proprio fantascientifica se la guardate e quello non è fatto per per sbaglio per caso ma è proprio perché la space x ci teneva tanto a fare qualcosa che potesse ispirare poi nuove generazioni ea missione di elon musk stesso quando hanno fatto anche le tute volevano che fosse qualcosa che i bambini guardandole volevano indossare assolutamente quindi hanno aggiunto queste piccole cose e quindi nel tempo si è aggiunta anche tanto amore più che altro la space x ha fatto cose che nessuno tentava di fare perché erano troppo complesse o troppo ambiziosi tipo cercare di far atterrare un razzo dallo spazio e gli è andata per anni male e hanno sempre pubblicato tutto hanno sempre pubblicato tutte le esplosioni tutti i problemi e questo ha creato con il pubblico molto molto empatia del questo gruppo di pazzi che cercavano di fare l'impossibile mentre tutte le altre grandi compagnie di lanci di razzi o agenzie spaziali li guardavano come un po i dilettanti no che guarda arrivano questi e ci vogliono insegnare a noi come fare i razzi ma va e quando quindi alla fine ce l'hanno fatta per davvero eravamo tutti tipo in lacrime è stato veramente un momento assurdo di vederli dopo tutti questi anni lanciare finalmente esseri umani dopo che per anni tutti hanno detto che non sarebbero mai riusciti è stato il culmine di un sacco di anni di attese di ambizioni ben poste perché ora abbiamo due astronauti che sono sulla stessa spaziale partiti con un razzo che è tornato a casa e questa roba è fantascienza io allora proprio su questo mi aggancio su una cosa molto divertente di interstellar ovvero che c'è un collegamento io non lo sapevo nel senso ovviamente stavamo parlando di interstellar abbiamo detto chi noi che invitiamo dobbiamo per forza invitare adrian non c'era una vera connessione con interstellar è solo che si parla di spazio invece oggi riguardando i miei appunti mi sono ricordato che sono andati proprio alla space ex di musk con christopher non e tutti quanti il production designer ovvero il lo scenografo per decidere come fare le navicelle perché l'idea di di nolan era quella di fare un film che fosse poco fantascientifico al contrario di dillon musk no che voleva proiettarsi in avanti non la voleva fare una cosa che fosse molto realistica e quindi è partito da i vecchi modelli della nasa e dai nuovi modelli che la space ex stava preparando e quindi hanno studiato i materiali che usavano hanno studiato tutte le le design che stavano che stavano avendo successo in quel momento e paradossalmente no la space ex c'ha il pannello con lo touch lo fighissimo con tutte le cose pazzesche al contrario invece nolan ha voluto proprio che ci fossero i i comandi fisici a pulsanti perché non voleva cercare di immaginare come sarebbe stato il futuro perché tanto avremmo fallito comunque quindi tanto vale fare una roba realistica come sarebbe al giorno d'oggi poi chi se ne frega che tra 300 anni è diversa e quindi hanno la realtà ha fatto il contrario di quello che ha fatto la finzione in questo caso sì 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 no è vero poi tra l'altro alcune cose spesso sono un po' cliché non nella fantascienza quindi dopo aver visto così spesso dei touch screen o comunque schermi olografici dopo un po' diventa la solita cosa quindi non sembra avere magari personalità quindi immagino che alcuni registi preferiscono qualcosa che sia meno uguale a tutti gli altri film tipo io la se vado a vedere un altro film di fantascienza in cui c'è a un certo punto un raggio luminoso che viene sparato verso il cielo da qualcuno basta abbiamo fatto un intero decennio tra cui tra tutto l'universo marvel e tutti gli altri film di fantascienza praticamente c'era un grande raggio che partiva verso il cielo è una delle cose che possiamo parcheggiare da parte però a me fa comunque impressione perché quello che vedi nei film di fantascienza a meno per quanto mi riguarda lo lascio lì cioè penso sempre a parte quando ho visto the first man il film di chesel che non credo che tu abbia visto pure quello il film che parte lì ovviamente è una cosa che è successa eccetera eccetera però quando vedo cose tipo in testellar mi immagino ok questa roba non arriverà mai o comunque non sarà mai così invece poi capita tipo il lancio della spacex che cazzo cioè è quello che abbiamo visto al cinema era questa infatti in chat fra l'altro ci ricordano che appunto quelli che hanno disegnato le tute della spacex sono è un costumista del cinema che è lo stesso che ha fatto il costume di batman per esempio si avevano intanto scusatemi c'è c'è una gara di regali di regali di sub nella chat c'è cioschio e monkiel che si stanno che stanno regalando abbonamenti a a più un posto grazie mille ragazzi scusami a di che stavi dicendo sulle tute no no dicevo che appunto avevano fatto un lungo lavoro prima sul cercare di creare la tuta con i materiali migliori perché il problema di creare la sexy quanto vuoi e che non tutti i materiali si comportano allo stesso modo e tu hai delle esigenze proprio di sicurezza molto stringenti cioè la tuta deve essere fatta per esempio con un materiale che un tempo era il kevlar o qualcosa di simile che non prende fuoco perché se capita un incendio dentro la capsula l'astronauta deve avere il tempo di sopravvivere a sufficienza da poter uscire fuori e quindi quello significa che il tuo range come designer per farla in un certo modo già si restringe tanto puoi dire quanto vuoi che vorresti un materiale che si piega in un certo modo e se quello rimane rigido eccolo è in alcuni casi hanno trovato compromessi per esempio il casco della spacex a differenza del casco di altre cose altre altre tute non è fatto di vari componenti è tutto quanto stampato in 3d in un unico pezzo è molto figa però il compromesso per esempio è che non possono piegare la testa come tra l'altro come i primissimi batman di christopher nolan la primissima tuta di di batman in batman begins era aveva il collo rigido non so se ricordate c'è quel design c'ha quel collo di plastica infatti lui ogni volta che si gira fa questa cosa ogni volta e nei panni di batman ma per esempio rientrando interstellar scusa mauro se ti rubo una cosa le tute spaziali che hanno i personaggi infatti proprio lì volevo arrivare quanto sono realistiche con le tute vere perché a parte queste della spacex io sapevo che le tute spaziali sono fatte appunto con dei materiali particolari e che sono iper mega costose costano migliaia e migliaia di milioni di dollari milioni di dollari c'era anche l'italiano non mi ricordo mai come sia il parmitano che nel suo ultimo lancio c'è un documentario che parla della sua vita c'è della sua vita parla del del suo ultimo lancio racconta lui la storia e raccontava proprio come la tuta spaziale un vestito che è fra i più costosi al mondo perché costa appunto diversi milioni di dollari quelle nel film per quello che non costano milioni di dollari fortunatamente allora c'è un po l'approccio contrario di quello che ha detto adriano del concetto di cerchiamo i compromessi però fino a un certo punto perché devono essere comunque funzionali nel caso ovviamente come tutto interstellar le tute dovevano essere studiate e realizzate per essere simili a quelle che la nasa utilizza e però dovevano essere un po più sexy no un po più un po più fiche nello specifico non volevano fare l'effetto pressurizzato che è quello che poi le rende gonfie come gli omeni michelin quindi volevano evitare quella roba però hanno cercato comunque di usare tutti i materiali realistici però qual è la ciò che a quel punto no diventa il contrario no ovvero facciamo la cosa che ci piace di più e troviamo un compromesso nel come funziona perché non deve funzionare davvero praticamente pesavano ognuna di queste tute 15 kg che non sono poco ed erano caldissime soprattutto considerando che loro dovevano girare all'interno di teatri di posa al chiuso con le luci puntate fortissime e quindi loro sotto le tute avevano delle magliette con una serie di tubicini di plastica dentro i quali scorreva acqua ghiacciata che acqua ghiacciata acqua freddissima con ghiaccio per poterli tenere non caldissimi per non farli per far per non farli morire e l'altra cosa particolare che i caschi contenevano all'interno un il microfono e un trasmettitore che non solo fungeva da microfono e trasmettitore per poter parlare con regista e potersi sentire tra di loro in certe situazioni ma è anche quello che sto poi utilizzato per fare la presa diretta quindi per prendere l'audio del film e questo gli ha permesso di girare molto da vicino con le camere imax perché le camere imax sono questi mostri giganteschi con questa pellicola enorme che fanno un rumore infernale quindi per i primi piani nelle scene di dialogo è molto difficile utilizzarle invece col fatto che loro avevano il microfono all'interno del casco si sono potuti avvicinare tanto con le camere imax ma questo perché c'era registrare l'ha fatto tutto in pellicola quindi si non ha questa fissazione totale di girare in pellicola e ha sempre girato in pellicola e a un certo punto se non ricordo il primo film è stato il ritorno è il cavaliere oscuro nel cavaliere oscuro la scena quella lì l'introduzione quella del joker e girata in imax che è un formato più grande della pellicola normale circa grande circa il doppio è solo che per girare bisogno di queste gigantesche macchine depresa che pesano tantissime ce ne sono pochissime al mondo e quindi hanno girato sempre di più in imax fino ad arrivare che interstellar credo sia girato se non tutto quasi tutto in imax e si sono dal da allora penso ormai non giri solo in imax che gli ne frega più ormai a lui questa cosa rispetto alle tute spaziali vere qual è il allora cione vai almeno ci sono due tipi di tutte e spesso vengono confuse tra di loro quella che portano gli astronauti dentro la navicella che si chiama evo cioè inter inericolar ma ben insomma serve soltanto per stare dentro e non non ti serve per uscire fuori e non è ottima per uscire fuori perché non è anche pressurizzata servo serve soltanto nel caso di problemi perché metti che si rompe qualcosa nella navicella e tutta l'aria esce fuori si depressurizza hai una protezione che ti protegge abbastanza da poter rimetterti in salvo ai lari all'interno e tutto quello che ti serve però non ti permette non è una tuta che per ti permette di stare ore fuori quindi quella che usano fuori quando fanno le camminate spaziali è pensata in maniera completamente diversa quella è una mini navicella spaziale non è comunque una tuta però è talmente tanto diversa che è un intero altro universo hai la capacità di stare fino a tipo 10 12 ore eventualmente nello spazio hai un sistema di propulsione tutto tuo un computer interno vari sistemi di raffreddamento che spostano il calore un'antenna sei letteralmente una mini una mini navicella spaziale fatta con delle braccia e piedi ma che ti permette di manovrare ma fondamentalmente hai tutto quello che trovi tutti i vari sistemi che tu metteresti dentro una navicella spaziale c'è anche qui si è collegato con un tubo ma per esempio negli anni 90 e si fino si buona parte degli anni 90 avevano delle dei dei jetpack per cui potevano allontanarsi e ci sono delle riprese di astronauti che volano per incontrare un satellite quindi lo shuttle si avvicina allo al satellite gli astronauti escono fuori usano il jetpack per girarci intorno la chiappano e poi usano il jetpack per portarlo dentro la baia dentro la stiva del del shuttle che si chiude poi e lo riportano a casa perché il satellite si era rotto quindi lo riportano a casa lo ripartano e lo riportano è più quello che è tipo come in gravity mi sembra perché pure gravity c'aveva gravity in gravity gravity infatti usa quelle tutte perché sono più spettacolari però quelle le abbiamo mandate in pensione perché il rischio è molto 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 alto ok questo tuo discorso ha fomentato la chat talmente tanto che x devils 92 impazzito e ha regalato 25 abbonamenti di nuovo x devils si sei cascato di nuovo adesso se ripartano pure la con l'altro a farsi le guerre a chi ne dona di più era e la fine perché qua siamo già solo stasera avranno donato che ne so una quarantina di abbonamenti fra l'uno e l'altro è veramente un delirio e fratto c'è matteo bruno che dice che in chat è come matteo brugo e dice adrian in questi giorni ho sentito più la tua voce che quella di chiunque altro mi dispiace no no dico a volte a me non so se vi è mai capitato quando parli tanto 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 che dopo un po ti viene il dubbio se la tua voce dia fastidio o no perché tu non ne puoi più ma perché quando le sentiamo la vostra questa è curiosa se non ci avete mai pensato la voce come la sentite voi non la sentirà mai nessuno al mondo mai è impossibile anche dal punto di vista tecnico registrarla è quasi impossibile perché il modo in cui la sentite dipende dalla forma del vostro cranio dalla densità delle ossa dal vostro cervello gli organi e tutto il resto il tipo di aria che c'è la gola eccetera quindi dipende da un sacco di cose e quindi la vostra voce rimbalza dentro la testa con tutto quello che c'è dentro e solo voi per tutta la vostra vita sentirete la voce come ve la sentite voi quando parlate e basta sarete il motivo per cui tutti quanti odiano la propria voce perché sono abitati a sentirla in una maniera e c'è quell'esperimento quella è la cosa più simile che ti sfonda la testa di mettere due pezzi di di cartone insomma qui davanti alle orecchie per fare in modo che la voce non ti arrivi da esatto e diventa completamente diversa comunque adrianti se mi posso permettere anch'io ti ho sentito tanto in questi giorni non dà fastidio anzi grazie grazie anzi guarda proprio no andiamo avanti mauro che cosa quale altra guarda allora parliamo a questo punto aspetta che mi ero segnato a ecco di una cosa che mi interessava molto ovvero il docking no se questo concetto che praticamente cristo fernola a un certo punto ha dovuto fare una decisione ha dovuto prendere una decisione e la questione era come gestiamo il docking nel senso che ci sono due tipi di film di fantascienza quelli in cui il docking è una cazzata e quelli in cui il docking è una cosa complicatissima in cui potrebbe andare tutto storto da un momento all'altro perché il punto è che giustamente non c'è modo di provarla questa cosa cioè non c'è modo di allenarsi a fare il docking e quindi spieghiamo che cos'è ragazzi ragazzi adesso lasciamo la parola d'adrian e quindi nello specifico in intersterla lui ha deciso di andare nella strada di ok docking momento di tensione momento mega complesso momento che potrebbe andare stortissimo da un momento all'altro e nello specifico l'hanno girato con delle enormi miniature che poi ne parliamo insomma tra tra sì ragazzi scusate l'attracco io purtroppo consumando tutti quanti materiali in inglese mi entrano in testa solo i termini in inglese non riesco più a ricordarmelo in italiano perdonate mi faccio schifo e quindi dicevo non hanno voluto girarlo in questa maniera con una serie di gigantesche miniature che erano controllate meccanicamente per proprio per simulare questo momento delicatissimo in cui tutto quanto si deve allineare alla perfezione allora sì fondamentalmente quello che ha fatto Nolan è stato creare la scenario cioè rendere secondo me l'attracco tra le navicelle uno dei momenti di tensione più alte del film quindi se l'è giocata mettendo tutto il destino dell'astronauta eccetera nelle mani di una manovra quando deve attraccarsi per salvare la navicella che cade sul pianeta spero di non spoilerare niente vabbè ragazzi è un film vecchio tranquillo è un film vecchio a un certo punto cade la cosa dello spoiler diciamo allora in due parole attracco e la manovra che le navicelle fanno quando si devono unire tra di loro permettendo a cose o persone di passare da una parte all'altra eventualmente oppure no dipende dal tipo di navicelle ma la maggior parte si attraccano appunto per avere un canale di comunicazione tra i due parti quando le navicelle si incontrano tra di loro e si avvicinano per esempio si incontrano nello spazio quello si chiama rendezvous quindi prima effetto una manovra di rendezvous per cui incontri l'altra parte ti parcheggi nel modo giusto prendi la mira e poi ti devi attraccare. ora è molto complicato muoversi nello spazio perché è contro intuitivo cioè se tu sei con una macchina a casa sulla terra e vuoi andare a entrare dentro il tuo parcheggio o quello che vuoi insomma come si chiamano? il garage il tuo garage scusami sì sono scemo ho fatto troppe live questi giorni quindi mi salto perdo le parole facili se vuoi entrare dentro il garage quindi effettui un attracco con la tua casa in quel caso prima devi accelerare piano piano verso il tuo garage il problema è che tu se tu acceleri nello spazio cambi orbita quindi quando acceleri vai più vicino al pianeta quindi vai giù quando diminuisci la velocità vai in su questo è perché se vi ricordate dalle superiori le leggi di Keplero vi ricordate che le orbite sono ellittiche cioè se qui è il sole l'orbita della terra i pianeti non è perfettamente circolare però sono un po' più delle ellissi quindi dei ovale quando il pianeta è più vicino accelera 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 perché? perché ha tirato più vicino e quindi la forza di gravità che è la stessa però essendo più vicino diminuisce la distanza la sente di più quindi accelera nel suo movimento e poi vai lenta quindi accelera 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 poi diminuisce di nuovo la velocità questo principio cioè che più sei vicino più ti muovi veloce più sei lontano più ti muovi piano c'è anche in orbita terrestre per cui poi lì quando i satelliti quando tu ti muovi con la tua navicella se tu acceleri non vai dritto quindi come fai? cambi velocità però devi essere molto attento a correggere di continuo piano piano la tua posizione quindi non è così facile come spingi semplicemente avanti perché cambia la tua orbita quindi devi fare molta più attenzione come gestisci ogni singolo movimento perché devi sempre tararlo in tre dimensioni quindi ogni accelerazione o decelerazione va sempre corretto il movimento va sempre corretto sì in tutte e tre le assi per cui se volete potete provarlo perché la SpaceX ha messo a disposizione il software che simula l'attracco è esattamente lo stesso che usano gli astronauti quindi potete vedere direttamente voi e provare ad attraccare la navicella manualmente vai vai finisci poi ti leggo una domanda quello che a me ha sorpreso in Interstellar è questo che le manovre sono incredibilmente difficili per la precisione e spesso quando le devono fare gli astronauti una delle cose peggiori è che se arrivi con un pochino più di velocità mentre le entrambe si muovono a 8 km al secondo che sono più di 26.000 km all'ora puoi fare un enorme danno perché aggiungi un po' di velocità quella velocità è come se l'altra parte si ferma ti schianti contro tutto quanto è fragile e puoi fare danni come è successo con la Soyuz che invece di beccare la porta si è girata e ha colpito uno dei pannelli solari della Mir la vecchia stazione quando ora abbiamo i computer più potenti viene fatto direttamente al computer questa manovra no? in Interstellar ci sono tra le intelligenze artificiali più potenti che gli umani avevano mai costruito che erano i robot che sono con loro i robot che hanno il senso di rumorismo meraviglioso e tutto quanto sarebbero stati mille volte più bravi di Cooper a fare quella manovra perché potevano contemporaneamente calcolare una marea di cose comunicando come è successo in questo caso con l'altra cioè le due navicelle erano in comunicazione il computer di bordo di cui una navicella può comunicare con l'altra e si possono dire a vicenda esattamente la posizione di entrambe e quindi si possono tranquillamente aiutare a vicenda su dove sono guidandosi Cooper non può fare questa cosa quindi deve andare a occhio è molto impressionante ero comunque molto impressionato è come vedere qualcuno cercare cioè che ne so avere la cucina di il più bravo cuoco del mondo e poi cercare di fare tutto quanto con dei piatti di plastica e un coltello cioè è impressionante lo stesso se mi fai una carbonara però non ha senso dovevano mantenere ovviamente la tensione se facevano fare tutto a un computer non funzionava se c'è una domanda di un ragazzo di Ricky che ha donato un euro che dice volevo sapere quanto è realistica la faccenda dello scorre del tempo in maniera così lenta per loro mentre tutti invecchiano so che teoricamente è possibile ma sarebbe realmente come viene rappresentata io so che tu hai fatto un video sul tuo canale youtube che ricordiamo si chiama link for universe esatto dove parli appunto del dello scorre del tempo in maniera diversa in diverse situazioni nel film questa cosa che dicono loro è possibile? sì 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 fondamentalmente succede esattamente come lo fanno vedere nel film solo che lì è un pochino più esagerato nei tempi nella in quanto è la differenza però sì è una cosa che succede di continuo anche qui quindi in quel caso per esempio i buchi neri hanno semplicemente una massa così grande in così poco spazio che l'effetto è esagerato rispetto a quello che sentiamo qui però ora i vostri piedi sono nel passato perché sono più vicini al centro della terra rispetto alla vostra testa il tempo ma guarda siamo talmente sicuri di questa cosa che l'abbiamo fatto anche con esperimenti non è solo una roba teorica abbiamo messo orologi atomici molto precisi quindi centinaia di punti di conteggio dopo la virgola e abbiamo messo un orologio atomico in fondo a un grattacielo e un orologio atomico in cima al grattacielo e li abbiamo lasciati per tutto il giorno e c'era una differenza di tempo erano sincronizzati perfettamente eppure quello che più vicino era nel passato rispetto a quello che è più in alto cioè io sapevo che di qualche millesimo di secondo il tempo varia per esempio sugli aeroplani cioè sono proprio millesimi di millesimi di secondi cioè se tu voli e stai giù fai la stessa cosa sugli aerei lo sapevo non sapevo addirittura di una differenza in una distanza così ridotta fra l'altro dipende dalla gravità perché piega lo spazio e il tempo quindi tipo se voi prendete un oggetto e lo fate cadere questo oggetto cade per noi ci insegniamo a scuola giustamente che è una forza e va benissimo è la forza e la gravità che lo tira giù però in realtà questa è una semplificazione o meglio è la visione classica meccanica di Newton quello che abbiamo scoperto con Einstein è che in realtà è proprio lo spazio che c'è in mezzo ad essere curvo e quindi questo oggetto cade perché scende a spirale verso la terra ora immagina che lo spazio tra qui e qui è curvo il nostro cervello non è adatto a queste cose come fai però tutte le cose che hanno una massa curvano lo spazio e il tempo anche di conseguenza intorno a loro quindi tutti gli eventi essendo in uno spazio curvo ci mettono di più a viaggiare per uscire fuori quindi più sei vicino ad un posto con con gravità con una massa più il tempo scorre piano se tu dormi accanto a una persona che questa è una delle cose più romantiche dormi nel letto con una persona il tempo scorre più piano rispetto a se dormi solo perché c'è più massa vicino a te se dormi vicino a una persona molto grassa anche a questo io te la messa lì romantica se poi la vuoi rovinare scherzo c'è la chat che è completamente innamorata di te c'è gente che dicono che gli sta impazzendo il cervello perché effettivamente sono tutti discorsi che ti staccano la testa perché sono cose al quale normalmente non pensiamo per il nostro normale vivere però d'altra parte sono sei estremamente chiaro e quindi l'abbiamo capito Fico Adrian ricordami se ricordo bene il motivo per cui non puoi non ricordo come si chiama il paradosso dei gemelli quella questione dei due gemelli che parto il motivo per cui però effettivamente i due gemelli non ritornerebbero sulla terra con due età diverse perché poi nel movimento di allontanamento di avvicinamento questi effetti si annullano nel senso che magari qualcuno dice vabbè allora io so tutto il tempo in un aeroplano così insomma invecchio di meno però nel momento in cui in cui ti riavvicini è più questione di accelerazione cioè se un gemello rimane qui sulla terra e l'altro se ne va lontano molto velocemente torna indietro la fregatura per lui è semplicemente il fatto che una volta che è andato lontano deve fermarsi ma poi deve decelerare poi deve girarsi ed accelerare di nuovo in senso contrario però al di là di quello funziona ho fatto un intero video dedicato al paradosso dei gemelli se lo cercate e ho una ventina di minuti è complicato da raccontare in poche parole quindi lì dato che avevo usato anche disegnini è più facile quindi andate a vedere vi ricordiamo vi ricordiamo fra l'altro chiediamo ai moderatori che ringraziamo non l'abbiamo fatto in testa che sono Giacomo Daniele e Lorenzo se non vi dispiace ragazzi di mettere il link del canale di Adrian che appunto su YouTube si chiama Link for Universe e anche il canale Twitch di Adrian che esiste da pochissimo ma ha già rotto Twitch quindi e il nome è questo qui Adrian Partate quindi adesso lo mettono giù vai Mauro no niente stavo dicendo Adrian questa cosa dei gemelli ti faccio solo vedere una cosa nel frattempo mentre parlavamo mi sono preparato un grafico giuro è l'unico grafico promesso non non ti preoccupare puoi fare quello che vuoi stasera qui allora non so quanto si vede ma qui sotto c'è lo spazio dove ho specchiato ma vabbè non ci ho pensato qui è il tempo ok ora immaginate di essere voi due seduti a guardare un film e Mauro a un certo punto se ne va a pisciare ora quando Mauro se ne va cioè per voi due seduti lo spazio è fermo giusto non vi state muovendo nello spazio vi state però muovendo nel tempo perché il tempo passa giusto quindi tu rimani lì fermo e per te lo spazio è sempre questo e quindi continua a muoverti soltanto nel tempo Mauro si muove anche nello spazio mentre si muove nel tempo e per lui che si muove nello spazio il tempo ci mette di più ad arrivare allo stesso livello quindi se tu ti muovi fisicamente per te rispetto a chi è fermo il tempo ci mette di più quindi il tuo orologio tu sei più giovane letteralmente quando torni al film rispetto all'altro è molto 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 difficile da far capire con le equazioni perché questa roba è tutta matematica e io questa cosa rende un pochino l'idea però quando poi vedi com'è la matematica è mille volte più affascinante solo che come tradurre la divina comedia in numeri puoi dare un'idea della simmetria di frasi e di rima però non ti rende l'idea di che cos'è la poetica dietro per cui capisco cercare di spiegare a qualcuno magari un programma spiegandogli in 0 e 1 cioè magari ok lo capisci posso provarci però questa cosa pensateci perché questo è semplice e semplice quindi quando voi vi muovete se voi se questo non funziona come incentivo per fare attività fiscale esatto perché io per esempio ho capito che adesso a 40 anni non ci arrivo più perché mi muoverò tantissimo invece gli altri stanno fermi e diventano più vecchi di me bellissimo ed è per questo comunque che viaggiare nello spazio quando viaggi gli astronauti vanno a 26.800 km all'ora quando ritornano tipo Samantha Cristofredo è stata per 200 giorni nello spazio quando è tornata a casa era 7 millesimi di secondo nel futuro cioè era come se avesse viaggiato di 7 millesimi nel futuro il che significa che poi fisicamente noi siamo in grado di viaggiare nel futuro quindi puoi immaginarti un mondo in cui un astronauta se ne va e quando ritorna qui è il 2300 e per lui sono passate 20 anni è successo un qualcosa che qualcuno sta cercando di entrare perché probabilmente hanno beccato il link e niente scusami Adrian c'era qualcuno che cercava di entrare perché probabilmente hanno beccato il link non so come andiamo avanti scusa allora tornando a Interstellar allora così poi ci muoviamo anche nella resa visiva di Gargantua dell'enorme buco nero e di quello che è invece il wormhole prima volevo riparlare dell'attacco e così accoppiamo a queste cose molto molto interessanti e intelligenti di Adrian le cose incredibilmente stupide che si fanno per fare un film ovviamente Christopher Nolan odia le cose le cose in digitale no? e quindi per avere una reference sul set ha fatto costruire le navicelle quella che c'è nel pianeta d'acqua quella che loro utilizzano per atterrare sul pianeta di ghiaccio quella effettivamente è stata costruita ed era di polistirolo ed era grande sì esatto perché non doveva effettivamente funzionare perché gli interni poi erano costruiti a parte ma doveva semplicemente servire per l'esterno ed era non era a dimensione reale era grande l'80% ovvero abbastanza più piccola da essere un po' più comodo da portare in giro ma non abbastanza da che si notasse nei totali essenzialmente e quindi queste navicelle sono state costruite e poi divise in vari pezzi e per il trasporto per essere trasportate in Islanda dove sono state girate le scene quando hanno finito di girare le scene non hanno detto senti ma ce le abbiamo ci sono avanzate che facciamo le buttiamo no usiamole come delle gigantesche miniature e poi non sono perché sono a grandezza reale montiamole su una serie di di gimbal che si muovono meccanicamente e usiamoli per fare la scena dell'attacco e quindi di fatto loro hanno usato queste gigantesche navicelle a grandezza reale per avvicinarle meccanicamente l'una con l'altra perché quello che diceva Nolan è abbiamo questi giganteschi gimbal per fare le scene di terremoto tra virgolette però il movimento meccanico che fanno è sempre troppo violento è sempre troppo destra-sinistra e quindi alla fine finisci sempre solamente per muovere la macchina da presa tua a mano per simulare i terremoti se invece le guardi da fuori sembrano proprio degli enormi macchinari che si muovono quindi montiamo su quelli che normalmente sono i gimbal utilizzati per fare i terremoti montiamoci queste finte navicelle di polistirolo e usiamole per fare gli esterni delle navicelle e poi la maniera in cui hanno girato tutto il resto perché sempre per dare uno spirito realistico a tutto ciò analizzando sempre i filmati della NASA hanno deciso di montare le camere IMAX come se fossero delle GoPro sulle navicelle perché giustamente Nolan diceva nello spazio normalmente le macchine da presa non girano intorno a caso non fluttano nel nulla sono agganciate alle navicelle e quindi giriamole in questa maniera essenzialmente quindi nel senso è sempre un po' il contrario dall'altro lato è sempre cercare di fingere per sembrare reali piuttosto che fare le cose per bene ma ci sono ancora sono sopravvissute queste cose ma e dipende perché in realtà quando si tratta di grossi film c'è poco almeno che non si tratti di Harry Potter dove poi lo sai prendi tutti gli oggetti di scena e li metti in un museo perché la gente li viene a vedere quando si fanno i film tutti gli oggetti di scena solitamente vengono buttati o riciclati per dirti nel trono di spade una delle spade che ci sono sul trono è la spada di Gandalf perché hanno raccolto tutte quante le spade che avevano nel magazzino chi era incaricato di fare quel trono e quindi hanno semplicemente usato tutte le spade che si trovavano davanti è una roba strana è strano come pensare che degli oggetti talmente preziosi che ognuno di noi considererebbe delle reliquie da tenere preziosissime loro ce le hanno nel magazzino buttate in mezzo al niente che poi se ti riservano vai e le prendi senti una cosa Adrian visto che per te immagino sia un inferno un po' andare al cinema a vedere un film di fantascienza perché ovviamente dai sì questo è vero no vabbè questa è una cazzata no questo è vero questo è impossibile però quando sei andato a vedere Interstellar qual è stata cioè mi hai detto già che l'hai visto quattro volte nel primo mese quindi immagino che ti sia piaciuto parecchio che comunque c'era molto di reale nel film qual è la questione cioè fra il reale e quello che si sono inventati allora fondamentalmente la mia relazione con la fantascienza è di amore amore perché non c'è molta parte di odio semplicemente perché mi piace tantissimo smontare perché mi piace vedere come come funziona l'universo della di di fantascienza di quello che ha creato quindi se per esempio un autore mi fa un mondo che funziona molto diverso da questo e le regole sono diverse per me non è un problema finché sono consistenti con quel mondo finché sono come dire che non cambiano durante il film mi dà un po' più noia quando non c'è alcun pensiero dietro quando magari le cose vengono fatte un po' alla buona quindi si inizia con delle regole poi quelle regole vengono dimenticate strada facendo nel film e quindi questo mi sta di poca cura però invece se un film parte dal presupposto che l'universo funziona è un mondo diverso per me figurativo cioè l'importante è che ci sia coerenza coerenza esatto questa è la cosa che mi piace poi mi piace quando il film non è che deve essere esattamente come qui tipo se vado a vedere un mago lo so che se fa sparire delle cose non le ha letteralmente fatto sparire giusto prestigiatore è divertente da vedere per quello però se io vedo il filo sotto perde un po' giusto? certo perde di di interesse è quello quindi se io quando vedo un film di fantascienza vedo degli errori che mi tolgono fuori dall'immersione del film mi danno più che altro per quello perché penso ah cavolo tipo che ne so in Armageddon sì che è pieno di errori di cose tipo ma arrivano sull'asteroide e ci sono fiamme in giro nonostante non c'è un'atmosfera quindi è impossibile ma ci sono anche ciuffi di erba che si sono dimenticati di mettere e a un certo punto dici vabbè ma se a te fregava così poco da non togliere neanche ciuffi di erba su ma perché io dovrei investire le mie emozioni in questa rido vedo esplodono le cose però poi alla fine quindi spesso un rapporto magari più conflittuale con film ma quello li metto nella categoria film fatto male a prescindere dal genere con Interstellar ero molto 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 colpito dalla reazione delle persone quindi la cosa che mi è piaciuta di più e quanto è piaciuto alle persone quindi sono andato molto volentieri anche perché la reazione degli altri era così entusiasta io ho avuto una diciamo le mie reazioni erano un po' più miste da una parte ho amato tanto molte delle cose scientifiche mostrate molte non sono realistiche sono più per esigenza di trama dall'altra parte le cose che sono non tanto di fantascienza mi hanno preso un po' meno tipo ci sono stati dei momenti di altissima emotività tra lui e la figlia però sono sbilanciati rispetto a come l'avevo sentito rispetto a tutto l'altro film e il fratello viene ignorato bypassato non c'è non c'è nessuna sinergia di equipaggio non mi sapeva di un equipaggio di una navicella ci sono stati altri equipaggi che ho amato che ti potrei dire il nome di tutti quanti quando sono andato da bambino a vedere il Alien il primo e poi Aliens il secondo lo stavo vedendo ieri mi ha citato Alien proprio ieri però tipo lì in quel caso ti fa sentire che ognuno ha una personalità che è funzionale al film che serve e in questo caso la personalità serviva più per la trama ma non erano legati a loro servivano soltanto quel carattere in quel momento e poi dopo si è rimesso da parte quindi quando mi serve molto abatto su su Cooper e la figlia essenzialmente è una roba che ci ha soprattutto intorno a loro sì e quando arrivi alla conclusione tutto quanto si conclude con lei che dice sì però ora arrivano i fan comunque caro è babbo però no io guarda sto godendo tantissimo perché io la penso esattamente come te con la differenza che non ho tutta questa presa con la fantascienza quindi a me proprio mi ha annoiato tremendamente ma quella è un'altra storia non volevo essere cattivo perché poi dopo queste cose emotive sono ovviamente ognuno la vive in modo diverso per cui come essendo un'opera d'arte è una cosa che si crea tra lo spettatore quindi io non andrei mai a dire se ho una persona che è piaciuta questo film fa oggettivamente schifo a me poi non può piacere però poi dopo vale qualcosa dell'emotività di ognuno anche se in questo caso poi dopo le cose che in cui mi sono mangiato le mani a livello scientifico sono tante cioè un bel po' senti c'è una cosa che in chat continuano a chiedere in continuazione citano sempre The Martian il film di Ridley Scott con Matt Damon sì è uno dei primi in cui il regista ha dovuto aggiungere degli errori per renderlo più credibile perché se non sarebbe stato troppo giusto cioè c'è un certo punto il libro è molto esatto è scritto da un biologo se non ricordo male sì Andy Wilde è anche scritto tra l'altro il libro è scritto in come si chiama in open source in collaborazione con il pubblico cioè lui scriveva episodicamente un capitolo alla volta allora per chi non lo sa è la storia di questo astronauta bloccato su Marte e quello che noi abbiamo è il suo diario fondamentalmente un suo diario vocale che tu tiene di volta in volta il libro era uscito come ogni volta che Andy Wilde aveva voglia scriveva un pezzettino di una giornata di questo astronauta bloccato su Marte e le difficoltà che affrontava gli episodi erano spesso conclusivi più o meno nell'arco di quel capitolo e poi la volta dopo gli sarebbe toccato un'altra sfiga sotto ha creato un'intera comunità di appassionati di geologi chimici fisici astronauti stessi e gli davano suggerimenti su come sarebbe stato nella realtà quando è nato il libro lui ha ricreato tutto questo prendendo tutto quanto dai suggerimenti per renderlo il più preciso possibile e ha funzionato perché hanno mantenuto questa cosa tutti quanti sapevano perché amavano il libro quindi gli davano suggerimenti non è che gli dicevano farlo così perché deve essere giusto gli dicevano ma lo sai che mi è venuto in mente che lui avrebbe potuto fare questa cosa stranissima che Andy Wilde figurati magari non aveva idea di quel processo chimico o di quella cosa e l'aggiungeva nel libro intorno alla trama è venuto fuori un libro bellissimo tra l'altro la parte che amo di più è che quando il personaggio sta male o è depresso o altro tu lo sai perché dopo tanti capitoli sei abituato a sentirlo e lo sai perché lo vedi che cambia il modo in cui scrive e se arriva un giorno in cui è strano è un po' come quando un amico ti scrive però non ti parla come al solito ti rendi conto che c'è qualcosa che non va sì esatto e quindi quando te vedi che empatizzi questa cosa è molto bella perché non te la dice il personaggio stava male e poi si mise su un sasso su Marte guardando melanconico il tramonto no ti lo vedi da come ne parla quindi mi è piaciuto molto e credo che Ridley Scott abbia cercato un po' di dare questa sensazione però con il compromesso di farlo più action e quindi nella parte finale ci sono molte cose che non ci sono nel libro per renderle il climax in molto meno tempo perché il libro è ovviamente si prende i suoi tempi per cui tutto quanto il film è compattato prendendo soltanto pezzettini del libro quindi capisco che il motivo per cui alla fine succede una cosa che riguarda un guanto che non dirò è completamente impossibile è molto difficile perché in assenza di atmosfera se tu ti spingi da una parte non hai attrito semplicemente ruoti su te stesso l'unico modo per muoverti come fanno anche le navicelle se spingi esattamente dove è il tuo baricentro ora una persona non ha una coscienza esatta precisa al millimetro di dove è il suo baricentro e come si deve spingere l'unica scena simile che ho visto credibile è un film della Pixar che è Wally in cui Wally quando è fuori e deve prendere la piantina lo fa con un estintore ma perché Wally è un robot certo può calcolare precisamente il suo baricentro ma è venuto fuori tra l'altro questo ti piacerà Mauro magari perché riguarda gli effetti speciali perché tutto il motore grafico che hanno usato per Wally è basato su un simulatore fisico di come si muovono gli oggetti intorno per cui quando gli hanno detto Wally deve arrivare da punto A a punto B il motore grafico che conteneva tutte le regole fisiche di come gli oggetti si muovono compensava in automatico l'estintore di Wally per farlo arrivare come se fosse davvero dello spazio perché perfetto beh allora su questa simulazione passiamo alle simulazioni di di Interstellar perché allora io ovviamente nel senso a me piace molto il mondo scientifico nello specifico quando ci Interstellar il mio coinquilino che è un mio grandissimo amico era uno studente di fisica che adesso lui sta in Svizzera beato lui sta a mezzo ai fisici quelli bravi però ricordo che siamo andati al cinema insieme che lui cercava di spiegarmi le cose però è proprio complesso perché come dicevi tu prima è essenzialmente una rappresentazione tridimensionale di una roba che però noi non non riusciamo a perché non ci sono esempi non so se devi spiegare la gravità in quanto forza è relativamente facile ti faccio vedere una matita che cade a terra come dici tu lo vedo lo comprendo gli posso dare un'immagine allora lo capisco invece certe cose sono assurde tipo appunto parlando del buco nero gargantua questa forma assurda che hanno questa forma in cui c'è l'orizzonte e poi c'è questa parte di sopra e questa parte di sotto perché con Kip Thorne appunto hanno fatto ovviamente non erano dei calcoli veritieri al mille per mille quelli che ha fatto Kip Thorne nel senso ha preso tutta quanta la matematica che lui aveva studiato negli anni precedenti e l'ha fornita al reparto degli effetti visivi e della simulazione hanno inserito effettivamente qual era la forza gravitazionale all'interno di quel buco nero che cosa c'era intorno e è uscito fuori che intorno al buco nero poi ci approfondisci tu ruotano in maniera molto veloce tutti questi questi asteroidi questi piccoli pezzettini di universo che andando così veloce si scaldano e formano questo disco di accrescimento si chiama questa enorme massa incandescente che però poi andando alle spalle del buco nero per via della luce che che si piega vanno a formare quella sorta di aureola e quindi l'hanno effettivamente Kip Thorne dice io sapevo che questa cosa era così lo sapevo nel senso perché l'avevo vista nella matematica però vederlo nella realtà rendermi conto che quei calcoli matematici erano corrispondevano a qualcosa di di reale è stata una roba una roba straordinaria perché poi anni poco tempo dopo abbiamo avuto la prima foto di un buco nero che effettivamente era molto simile si 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 infatti ve lo esatto questa roba della luce che da dietro arriva avanti fa e vediamo se riesco a trovarla un esempio cioè questa che ve la ricorderete tutti no questo è esattamente quello che si vede in Interstellar la luce che si vede intorno al buco nero è piegata anche da dietro quello che succede è che tutti gli oggetti piegano lo spazio intorno a loro quindi immaginatevelo se fossero in due dimensioni come un oggetto che su un piano su un piano cosa posso usare questo è piegato in questo modo no? e se questo fosse lo spazio è piegato e quindi quando un qualcosa gli gira intorno viene piegato allo stesso tempo insieme allo spazio ora la luce non ha massa non ha letteralmente massa per cui non può essere attratta dalla gravità in alcun modo per cui come fa come mai la luce viene attratta dal buco nero che gli affrega della forza di gravità perché in realtà non viene attratta da quello è che la massa del buco nero deforma lo spazio e la luce va continuamente per cavoli vuole andare dritta e continua ad andare dritta ma se quel dritto è in uno spazio che è piegato allora andrà curva quindi la luce continua dentro lo spazio e la direzione che viene in cui viene piegata dipende dalla gravità che c'è intorno questo esperimento l'abbiamo fatto nel 1919 cioè Einstein abbiamo detto tutte queste cose un botto di tempo fa pensate allora durante la guerra fredda il primo che risolve come le equazioni riguardo a come si comporta la gravità di un buco nero è un fisico che si trova in una in una trincea in in Prussia e sta combattendo durante la guerra e muore lì e lui scrive ad Einstein dicendole hai scritto delle equazioni bellissime e io ora mentre sono in trincea mi bombardano addosso ho fatto un po' di soluzione ho trovato delle soluzioni alle equazioni questo è il sistema Svarshal e lui mentre era lì e poi è morto in quelle trincee calcola il modo in cui la gravità piega lo spazio e il tempo intorno a un buco nero e il fatto che appunto gli oggetti possono collassare verso un buco nero e con quelle equazioni dopo abbiamo svoltato la fisica come la conosciamo grazie appunto a Einstein ma anche tanti altri che ormai pochi ricordano perché si ricordano della superstar è come le boy band che tutti ricordano solo fosse stata una boy band di fisici tutti avrebbero ricordato solo Einstein Justin Timberlake la famosissima boy band dei fisici però allora in questa casa cosa succede è che quando nel 18 avevano finito la prima guerra mondiale insomma nessuno pensava che avrebbero fatto il sequel perché già il primo film aveva fatto schifo però nel frattempo tutti pensavano di poter tornare alla vita reale e c'era un tedesco che era Einstein un inglese che era Eddington e un paio di altri fisici francesi volevano verificare le previsioni questa è l'inizio di una barzelletta tra l'altro ma guarda che dopo che si sono ammazzati tra di loro fino a mesi prima proporre una spedizione insieme per vedere un'eclissi era una roba fuori di testa ha funzionato perché sono andati tutti quanti insieme per vedere se Einstein aveva ragione o no perché secondo i suoi calcoli la luce di una stella che è dietro il sol questo è il sole no? e qui c'è la stella se non lui ha torto la luce della stella arriva qui viene bloccata dal sole e noi da qui non vediamo niente se invece ha ragione la luce della stella arriva qui la massa del sole è appiegato lo spazio-tempo così e quindi la luce passa intorno e poi arriva da noi e noi vediamo la lucina della stella qui anche se sappiamo con certezza che è dietro il sole e quindi puoi verificarlo l'unico problema è che il sole tende a essere molto luminoso come fai a vedere la lucina accanto? c'è un trucco nel 1919 c'era un'eclissi totale di sole che avrebbe coperto completamente la luce del sole e si sarebbe visto il puntino accanto e quindi vanno in in Brasile dove dove si vedeva l'eclissi per vedere con tutti i telescopi che avevano se quel puntino si vedeva quindi immaginate tutto il lavoro di anni tutta la nuova fisica che si sarebbe aperta con un singolo puntino di luce pensa come si sentiva quando hanno visto per davvero quel puntino e quindi c'era 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 Einstein aveva ragione e quindi sono impazziti tutti perché questo cambiava completamente la fisica significava che realmente la natura stessa dell'universo intorno a noi era completamente diversa da come la immaginavamo l'universo era completamente un'altra roba e questo era solo l'inizio di Mind Blown perché pochi anni dopo un altro giovanotto di nome Hubble avrebbe fatto sconvolto tutti andando contro tutti quanti dicendo che le spirali che noi vedevamo nel cielo le nebulose a spirale non erano nebulose qui nella nostra galassia ma erano altre galassie fino a quel punto fino a solo cento anni fa noi eravamo convinti che tutto l'universo fosse solo la via Latte e tutte le altre galassie che vedevamo erano solo spirali qui dentro che erano nebulose qui quindi quando Hubble è arrivato e ha detto raga ho fatto un calcolo secondo cui quella spirale lì è a due milioni di anni luce da noi milioni di anni luce e se quello è vero allora significa che tutte le altre galassie sono molto più lontane di così e se quello è vero significa che l'universo può essere gigantesco quanto può essere grosso infinito è finito quando è iniziato dove viene tutta sta roba tutto quanto è successo in pochi anni e ha cambiato per sempre il modo di pensare dei umani e ora lo diamo per scontato ora i bambini che vanno a scuola e imparano che è il piano di galassie mentre solo fino a cento anni fa tutto il nostro universo era una piccola galassia tutto il mondo cadeva soltanto perché c'era forza di gravità e non avevamo idea di come funzionava il tempo vabbè c'è ancora gente che crede che la terra è piatta ma quello è un altro discorso da questo punto di vista giusto per tornare su Interstellar la fisica che viene vista in Interstellar di come si piega la luce è esattamente questa è la stessa cosa quindi quando si vede che intorno al buco nero c'è la luce tutta piegata in avanti è perché la luce del disco c'è un disco di materia che appunto come diceva giustamente Mauro ha crescido il buco nero ha preso una stella l'ha fatta a pezzettini e tutta la materia cade come un vortice verso l'interno ora la luce di questo disco luminoso che è dietro viene piegata in questo modo fino a sopra esattamente come la luce che vi dicevo così quindi intorno al buco nero da comunque lo giri si vede un disco di luce comunque tu lo giri si vedrà sempre questo disco perché appunto la materia intorno è piegata però questo di nuovo succede con tutte le cose qualsiasi anche una persona piega lo spazio il tempo intorno solo che succede a una dimensione minuscola i buchi neri sono meravigliosi perché è anche un po' stronzi perché ci nascondono tutto ma sono perché sono casi estremi quindi lì vedi le cose in modo molto più esagerato rispetto a quello che succede qui tipo se ti metti sul bordo di un buco nero e guardi di lato ti vedi la tua nuca perché i fotoni che partono dalla tua nuca rimbalzano su cioè arrivano da qui partono vorrebbero andarsene dal buco nero ma non ce la fanno rimangono in orbita temporanea intorno al buco nero quindi tu guardi di lato e vedi i fotoni che erano sulla tua nuca e se li vedi è una delle ultime cose che vedrai perché il problema è che la differenza di gravità quando ti avvicini così tanto al buco nero diventa così alta che la gravità che senti ai tuoi piedi è migliaia di volte più grande della tua testa per cui vieni rotto in due e poi un altro pezzo e poi un altro pezzo e questo processo viene chiamato spaghettificazione letteralmente dal termine scientifico giuro se lo cercate su wikipedia lo trovate sì perché i fisici sono molto pessimi a dare nomi alle cose sì cioè i buchi neri per esempio non sono dei buchi e la maggior parte delle volte non sono neanche neri quindi o il wormhole che si chiama così perché imita un verme che va dentro una mela cioè potevano inventarsi una cosa migliore forse però ecco diciamo che in questo caso quindi tenete a mente che i buchi neri esistono davvero funziona davvero così la luce che si piega intorno le abbiamo anche visti le abbiamo fotografati e tutti quegli effetti se vi sembra una roba solo fantascientifica ricordatevi che succede anche qui se una volta siete in ritardo per andare al lavoro se voi vi piegate per terra siete più vicini al centro della terra e vi giuro il vostro orologio scorrerà più piano rispetto a quelli che sono in piedi poi è solo il vostro orologio quindi arrivati comunque tardi però se volete risparmiare un miliardesimo un secondo potete dire il mio orologio andava più lento sono ancora più stronzi nelle fabbriche che mettono gli orologi lontano dal centro della terra per cui sei sempre un po' in ritardo no ma è fighissimo sentire tutta questa roba perché la maggior parte delle cose ovviamente già per cultura generale uno le conosce come dicevi tu i bambini adesso studiano delle varie galassie eccetera però sentire le piccolezze che ci sono anche nella vita di tutti i giorni che normalmente tu come ce vivi con sta cosa cioè come cacchio fai a vivere tranquillo sapendo tutte queste cose no è pazzesco cioè non ti abitui mai per esempio se tu ti guardi ora il pollice va bene dentro l'esta dimensione più o meno passa in un secondo circa passano 70 miliardi di neutrini ecco qui vabbè sono particelle non sarò da per tutto la cosa canza è questa i neutrini sono particelle particolari molto 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 piccole che non interagiscono con niente proprio sbatte nulla poi passano attraverso tutto non si legano alle cose passano attraverso tutta la terra senza neanche colpire un singolo atomo probabilmente capita solo molto 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 di rado che qualcuno colpisca qualcosa e allora così che le abbiamo scoperte questo significa che una volta che nascono possono attraversare tutto senza problemi in tempo reale ora questo a tendere da parte come in più segnalibere dentro il sole in questo momento dentro il nucleo del sole un sacco di atomi sono molto molto vicini atomi di idrogeno e dato che gli atomi noi sappiamo soltanto che gli atomi possono occupare una posizione ma incerta ok quindi possono essere in due posti contemporaneamente le particelle di cui sono fatte non è incerto esattamente dove sono così vicini che periodicamente data la massa del sole dato quanto ce ne sono periodicamente si fondono insieme quindi si ritrovano nello stesso punto e quindi quando si fondono diventano un atomo più grande e rilasciano un sacco di energia e questa energia che hanno in più che di cui si devono sbarazzare sono fotoni e un po' di altre particelle però con i fotoni cosa succede? nascono dentro il sole ora e quando escono e vengono uscire fuori sbattono contro qualcosa e tornano indietro sbattono contro qualcosa è come cercare di uscire dentro un bus da un bus che ne so in ora di punta Milano-Roma è difficile perché uno ti dà una gomitata torna indietro per uscire da dentro il sole fuori ci mettono fino a più di 100 mila anni in alcuni casi in media sono 70 mila anni ma ci possono mettere anche di più quindi voi se aprite la finestra la mattina vedete la luce del sole su di voi quei fotoni sono nati quando la nostra specie aveva iniziato a fare i primissimi passi e ci hanno messo giuro quei fotoni sono molto molto più vecchi di tutto quello che noi abbiamo fatto cioè ci sono fotoni che sono partiti sono nati dentro il sole quando c'hanno ancora i Homo erectus in giro sulla terra i mammut sono lì da quel tempo ora questo una volta che sono usciti fuori dalla superficie del sole fino a noi ci mettono solo 8 minuti al massimo della velocità possibile quindi alla velocità della luce nel frattempo cosa succede dentro nel sole nascono anche neutrini quando si fongono le particelle nascono anche queste altre particelle neutrini non se ne fregano e passano attraverso tutto il sole ignorando completamente quello che c'è arrivano fino a noi passano dentro di noi passano attraverso la terra e continuano per tutto la strada nell'universo questo significa che ora nel vostro pollice ci sono letteralmente pezzi di materia non è energia sono pezzi pezzi che puoi pesare su una bilancia di materia che è nata 8 minuti fa nel sole 8 minuti fa era dentro il sole nel nucleo e noi eravamo qui a parlare di cazzate 8 minuti fa questa particella era dentro a 15 milioni di gradi celsius dentro una pressione milioni di volte più grande di quella terrestre nel sole e si è fatto tutto il sole mercurio venere tutta la terra tutta l'atmosfera ora è dentro il vostro pollice e continuerà e per tutta la sua vita vedrà cose che neanche immaginate avrà una vita molto più bella di voi temporaneamente però temporaneamente è dentro il vostro pollice quindi avete letteralmente pezzi di cioè in chat stai staccando la testa a diverse persone c'è gente che scrive già stai impazzendo sì ragazzi io sto assolutamente uscendo fuori di testa stasera con tutta sta roba c'è questa cosa che ci hai detto adesso che poi ci sono arrivato piano piano a questa cosa del sole nella mia ignoranza per me è pazzesco sta ma per quello mi piace la fantascienza che sfrutta queste cose ti dà una dimensione umana con dei personaggi in una storia di cose straordinarie credo che sia piano dimmi dimmi mettiamo un altro strato per far esplodere il cervello di Giovanni scusate ragazzi io sto uscendo fuori di testa stasera allora prima faccio una piccola introduzione su una roba che avevamo promesso di parlarne quindi ne parliamo al volo giusto per per levare la curiosità perché sennò poi la 0G all'interno delle riprese noi nel video abbiamo fatto vedere che c'era questa sorta di di altalena con un contrappeso attaccato da un lato e dall'altro lato attaccato l'attore che Nolan operava fisicamente questa c'era questa sorta di 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 forca attaccata ai fianchi degli attori li tiene sospesi in aria al di là che la cosa complicatissima loro avevano questa astronauta consulente che gli diceva effettivamente come muoversi cioè quale fosse quanto fosse semplice spostarsi in 0G quanto bastasse pochissimo e il problema più grande è che ovviamente quando si trovano a pancia in su dovevano sembrare estremamente rilassati mentre erano estremamente in tensione perché dovevano tenere tutti gli arti piegati verso l'altro le gambe piegate verso l'altro il busso piegato verso l'altro però con una reale gravità sul set questo significa che loro dovevano tenere tutti gli addominali tesi quindi con la faccia dovevano essere rilassatissimi e col corpo dovevano essere mega tesi per andare all'insù ma la maggior parte delle volte oltre a fare questa cosa hanno semplicemente ruotato di 90 gradi tutti i set e c'erano dei cavi che li tiravano dall'alto e loro semplicemente giravano diciamo che se normalmente questo era il corridoio ruotavano il corridoio così e giravano con la macchina da presa in questo senso con gli attori che andavano verso l'alto verso il basso e quindi ottenendo questa sorta di di finta gravità in cui venivano calati o tirati su e questo per evitare che usando sempre la stessa tecnica poi fosse lo spettatore fosse in grado di capire qual era il trucchetto usato per la 0G quindi questa vado proprio giusto levare davanti per parlarne perché noi invece avevamo visto che in gravidi addirittura c'erano degli esperti di corpi che spiegavano a sandra bullock come fare a tenere il corpo in una certa maniera quindi no qui hanno stato semplice dei cavi ma la cosa che adesso metto lì per così poi adriam puoi far esplodere la testa dei giovanni e di tutte quante le persone in chat io sto scendo fuori è che parliamo di un attimino del wormhole del tesseract e di quelle che credo si chiamano come si chiamano se non ricordo male civiltà di livello 1 quella roba quel concetto lì quella sorta di questione perché il wormhole è matematicamente possibile come spiega Kip Thorne in Interstellar ma non si sa se possa succedere naturalmente nel senso matematicamente può esistere ma se deve se esiste vuol dire che qualcuno ce l'ha messo lì e alla stessa maniera quando Cooper alla fine entra nel tesseract il punto è che c'è una qualche altro essere qualche essere quadridimensionale che effettivamente l'ha guidato in quel punto essenzialmente quindi prego Atrian allora stavo disegnando tipo se se sei su un foglio no questo è un singolo punto e una dimensione già se hai due punti tra di loro hai una linea sono due sono due dimensioni e quindi se fai se hai una ti muovi in questo in questo modo hai due dimensioni no ora se tu aggiungi la terza dimensione come fai a rappresentarlo a qualcuno che è in due dimensioni è difficile c'è un intero libro su questo chiamato Fartlandia qui si parlano di diverse prospettive se vuoi mostrare qualcosa di tridimensionale immagina che in questo mondo due dimensionali parte passa una sfera che è un oggetto tridimensionale no se una sfera passasse attraverso questo foglio quello che vedremo sarà una cosa del genere cioè vedresti un cerchio all'inizio piccolo quando è solo la punta della sfera che passa attraverso il foglio e man mano che immagino questa sfera che attraversa il foglio il cerchio diventerebbe sempre più grande perché tu vedi la circonferenza della sfera e basta perché un due dimensioni è l'unico punto in 2D della sfera mentre attraversa questo piano bidimensionale quindi un punto o una linea in un mondo 2D vedrebbe comparire un cerchio e scomparire mentre la sfera è attraversata nel nostro mondo noi ora una sfera iperdimensionale quadridimensionale comparisse improvvisamente qui davanti a noi vedremo una sfera nello spazio compare una sfera diventa sempre più grande e poi dopo riscompare perché vediamo solo l'aspetto 3D di un oggetto quadridimensionale quattro dimensioni spaziali in questo caso quindi quello che succede in interstellar è che c'è una specie che vive in un'altra appunto con una dimensione spaziale in più se volete un esempio di questo beh vi basta aprire un libro metti che prendi che non so cappuccetto rosso e se tu prendi il cappuccetto rosso non hai il cappuccetto rosso a portata no non ce l'ho il cappuccetto rosso a portata di mano mi dispiace faccio l'esempio altra cosa ma il cappuccetto rosso non ce l'ho faccio l'esempio stupido perché magari così la trama se la ricordano immagino tutti se tu prendi il libro tu hai tutto quanto la trama sotto i tuoi occhi contemporaneamente puoi passare da una parte all'altra tu rispetto a cappuccetto sei fuori in una dimensione più quindi in quel caso tu sai esattamente puoi passare girando pagine da una parte all'altra tutto quanto tutti i singoli momenti tutti quelli che vi raccontavo prima sul grafico questi qui tutti ogni singolo puntino è fermo c'è la pagina in cui Mauro è accanto a te c'è la pagina in cui si ha fatto un passo e la pagina in cui ha fatto un altro passo e così via è come scorrere un libro quindi quello che si vede alla fine della libreria in interstellar è come se qualcuno potesse smontare quello il suo movimento come si vede nel grafico in singoli momenti in singole pagine su tutte le singole cose successe nell'universo e poi scorrere avanti e indietro quindi se il cappuccetto rosso esce fuori dal libro per avvertire se stessa del lupo semplicemente gira il libro al contrario e quindi si lascia dei messaggi aggiunge qualcosa non so un inchiostro o altro fondamentalmente quello è l'unico modo per viaggiare nel passato o comunque avvertirsi nel passato perché l'unico modo che hai per non avere il tempo è se esci fuori da lì e in quel caso il tempo diventa come una dimensione spaziale quindi muoversi nel tempo diventa come girare le pagine del libro tutto lì è una cosa fisica mentre da noi per cui siamo dentro lo scorrere del tempo per noi non è possibile fermarlo non puoi fare niente per quanto noi possiamo provare immaginarci futuristiche civiltà di qualsiasi tipo finché siamo in tre dimensioni sarà impossibile tornare indietro nel tempo mi dispiace sciupare il sogno di tutti viaggiatore del tempo però si può andare avanti nel tempo con un trucco per cui il tuo tempo scorre diversamente da un altro ma per tornare indietro nel tempo il problema è che dovresti far ritornare l'intero libro non puoi fare tornare capucetto rosso indietro nel tempo nel libro senza però girare tutta la pagina come fai immagina di un libro di girare soltanto un personaggio di quella pagina e non tutto il resto della pagina non puoi giusto non puoi prendere soltanto una lettera e il resto quindi allo stesso modo tu puoi girare tutta la pagina nel nostro universo se vuoi tornare indietro ogni singolo atomo di tutte le stelle di tutti i pianeti di tutte le galassie di tutto l'universo deve tornare come erano ieri se vuoi tornare ieri altrimenti non puoi tornare solo tu a ieri in una scatola magica sulla terra infatti Cooper si ritrova all'esterno di questa situazione in quel caso esce fuori dall'universo e si ritrova fuori e la domanda appunto di tutti era uno chi è quella civiltà che cos'è che ha creato questo wormhole anche perché lo tengono aperto appunto con questo trucco delle quattro dimensioni perché il wormhole per chi visto che lo chiedevamo anche nel chat è una serie di equazioni che permette che se tu se hai un oggetto che piega lo spazio e il tempo in questo modo una stella o un buco nero più è massiccio più lo piega ok a un certo punto lo piegerà così tanto da renderlo sì da avere un passaggio dall'altra parte quindi se c'è un buco qui uno qui uno si piegano 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 che alla fine come fanno a vedere nel film stesso puoi passare da un punto all'altro ora il problema con questo è che se voi provate a dare un pugno in aria e tirate indietro noterete che non rimane un buco questo perché all'aria non piace che rimangano buchi li riempie subito e allo stesso modo con l'universo se voi create un buco nello spazio così da una parte all'altra l'intera energia dell'intero universo cercherà di tappare quel buco subito quel tunnel che tu hai creato subirà appunto avrà bisogno di una forza spaventosamente grande ma roba che neanche intere galassie in termini di energia ti bastano per tenerla aperta in quel modo quindi qualsiasi cosa tenga aperto un whirlpool da un buco nero all'altro da un passaggio all'altro deve avere una quantità di energia a disposizione enorme che tra l'altro non finisce perché lo tengono aperto per un sacco di tempo che quindi mi fa sospettare che appunto sia qualcosa di e quindi l'altra cosa che mi chiedo è di tutti i posti dove possono mandare gli umani a vivere di nuovo li mandano a un torno buco nero a 10 miliardi di anni luce da qui in uno dei posti più inospitali che ci sono Marte Marte è meglio dei pianeti dove l'ha mandata però c'era già Matt Damon su Marte non lo occupa così tanto pazzo c'era Gerry Scott quindi diciamo che la parte del film tutto il film lo racconta bene Kid Thornt se leggete il suo libro tra l'altro era nata da una sua idea su nei anni 80 una produttrice di Hollywood quando si sono ritrovate delle feste lui questa produttrice è Carl Sagan che era un divulgatore molto famoso uno scienziato morto alla fine degli anni 90 e insieme hanno pensato a diverse idee su come fare un film sui Bucchi Neri perché avevano visto Black Hole della Disney se qualcuno di voi se lo ricorda e non erano particolarmente colpiti da come venivano stare e quindi giravano girosolavano queste idee hanno creato una trama eccetera però non era una roba ancora ufficiale il primo che lo prende come progetto e lo scrive e lo fa trasformare quasi in un film è Steven Spielberg Steven Spielberg doveva essere il regista poi dopo c'è stato problemi lui si è allontanato però sarebbe stato probabilmente un film molto 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 diverso nel modo di essere fatto sicuramente questo è per dire che alla fine Nolan ci ha messo molto del suo nel trasformare del film del film che lo vediamo perché di suo in realtà il fratello che ha scritto la prima scena del bozza aveva questa questa bozza che andava avanti da un po' che stava vendendo la Paramount se non ricordo male e a un certo punto Christopher Nolan è entrato a bordo ha visto questa dopo la protesta che c'è stato dei sceneggiatori perché ti ricordi a Hollywood furono proteste la fatta sua e la a sua volta rivenduta tra l'altro ciò qui aspetta me l'ero segnata questa citazione di Jonathan Nolan eccola qui che dice sai di essere un film di Christ quando ti trovi in una finta fattoria con un finto campo di mais in mezzo a una finta tempesta di sabbia allora quello è un film di Christopher Nolan insomma quindi sì sicuramente è arrivato e ci ha messo tanto di suo però probabilmente è l'unico è l'unico regista che poteva dialogare in quella maniera con Kip Thorne che gli ha dato così tanto spazio di inserire le proprie teorie su questa cosa di Spielberg però volevo inserirmi con una cosa con una curiosità che mi ha fatto mega ridere quando l'ho scoperta Aaron Sorkin che è un famosissimo sceneggiatore di Hollywood ha scritto social network ha scritto il film su Steve Jobs insomma sceneggiatore pazzesco era stato approcciato da Spielberg per scrivere questo film di un viaggio su Marte e nel fare questo incontro con Spielberg praticamente viene a sapere che chi ha commissionato questo film era la NASA in prima persona perché il punto qual era? La NASA aveva bisogno di fondi per organizzare dei viaggi su Marte perché voleva esplorare Marte ma il problema è che la corsa allo spazio come ben sai a un certo punto ha esaurito la propria moda insomma tutti quanti hanno iniziato a dire vabbè ok non serve più buttare soldi in questa roba e quindi la NASA aveva chiesto a Spielberg di sviluppare un progetto che facesse tornare nell'opinione pubblica quella voglia di esplorare l'universo che c'era stata fino a un certo punto quindi la cosa questa cosa assurda in cui la la scienza reale e l'andare avanti del nostro della nostra comunità scientifica si basa comunque sull'influenza culturale che i film hanno su tutti quanti che è una follia insomma tanti guarda quando usci il romanzo alla metà dell'ottocento usci Viaggio sulla luna di di Jules Verne lo lessero in tantissimi giovani non solo anche tanti scienziati che continuavano a dibattere intorno alle possibilità se sarebbe possibile così o no come farebbero fatto e da quelle discussioni naccono idee che sono state il cuore di quello che è diventato poi dopo l'era spaziale tipo uno di questi che dibatteva avanti indietro su come avrebbero potuto fare in quel romanzo di fantascienza di andare alle luna era un russo di nome Tcharkovsky che disse che secondo lui il punto è che non puoi andare con un singolo grosso proiettile come un cannone perché è troppa massa per è inutile che ti porti dietro man mano che bruci carbonate quindi penso ma se invece noi partiamo con un razzo che dividiamo in pezzi allora quando finisce un po' di carburante stacchi il pezzo che non ti serve e lo lasci via e finisci un altro po' di carburante e stacchi quel pezzo la tua navicella e diventa molto più efficiente e con la stessa quantità di carburante puoi arrivare molto molto più lontano e questa cosa è quello che oggi chiamiamo la stadiazione dei razzi e viene fatta di continuo ed è anche il razzo che poi ne ha partito con astronauti avete visto si è diviso in due è il cuore di come viene fatto ora e Tcharkovsky l'aveva immaginato quando non era volato neanche ancora il primo aereo per cui erano dibattiti in atto dalla fantascienza quando poi sono venuti fuori i film di fantascienza negli anni 40 50 su viaggi verso altri mondi molti hanno cercato di capire dibattendo intorno a quei film intorno a una birretta o altro com'è che potresti fare questa cosa per davvero queste discussioni tra fisici e scienziati e ingegneri poi appena la NASA ha detto oh ragazzi hanno detto di andare davvero sulla luna sono venute fuori perché si sono messi tutti nella stanza e hanno detto abbiamo solo dieci anni qualcuno ha qualche idea su come fare qualcosa e qualcuno ma io in realtà tra una birra e l'altra qualcosa l'avevo pensata e molte idee sono venute fuori da una continua ispirazione tra fantascienza e scienza ma perché era quello che dicevamo prima alla fine io ho l'impressione che molto di quello che è il progresso che facciamo è basato su ciò che abbiamo voglia di fare basandoci sui film che vediamo tipo i touch screen è una roba che è girata tanto nella fantascienza prima che effettivamente qualcuno dicesse vabbè ok facciamola nel senso troviamo una maniera di farla magari se non avessimo avuto così tanta voglia di avere quel prodotto perché lo vedevamo in tutti quanti film di fantascienza la ricerca scientifica sarebbe andata in un'altra direzione lo stesso vale per le macchine volanti che non sono poi così utili io non credo siano così utili poi effettivamente però le vogliamo essenzialmente secondo me le macchine volanti il problema grosso le vedremo io ho il sospetto che vedremo comunque se non macchine come le intendiamo per il trasporto quotidiano comunque mezzi volanti personali diventeranno molto comuni ora il limite è sempre stato che dovevano essere guidate da noi se tu hai visto come si comportano gli umani sulla strada in due dimensioni immagina le persone che vengono il traffico di Milano li faresti volare a volte sì magari via le dimensioni di traffico eh capito quindi però se può essere guidato da intelligenze artificiali tu sei solo passeggero già ci sono ora a Dubai per esempio ma è anche in un altro paio di città all'aeroporto ci sono droni grossi droni taxi tu entri dentro il drone si alza ti porta in cima al palazzo dove devi scendere e arrivi direttamente dalla cima del palazzo fino al piano dove devi lavorare vai passando completamente tutto il traffico della città e questa cosa viene fatta ora regolarmente quella è letteralmente una macchina volante però dato che ora usiamo drone dato che non è guidato da un qualcuno non la chiamiamo in quel modo non la riconosciamo come quello così come molte cose fantascientifiche che facciamo ora tipo questa cosa qui che fino a pochi anni fa sarebbe stata una roba fantascienza noi non la viviamo come fantascienza perché abbiamo visto i piccoli passaggi in mezzo quindi a volte le cose fantascientifiche che ci sono già ma non le noti chiedono in chat ma tipo il bullet train che c'è in Giappone quello come funziona perché quello se non sbaglio viaggia su un campo di forza su levitazione magnetica esatto l'idea è che se tu non hai l'attrito tra la ruota del treno e la ferrovia la linea ferrata in sé puoi arrivare a una velocità più alta perché ovviamente l'attrito significa una perdita di rallenta una nuova idea di Elon Musk da questo punto di vista è quella di creare ci sta già lavorando ci stanno lavorando in tanti dei tunnel in cui togli tutta l'aria dentro e il treno può muoversi senza l'attrito con l'aria e in quel modo puoi arrivare a velocità enormi ti rallenti velocemente con magneti quindi tu vieni accelerato non hai l'attrito con l'aria quindi ti muovi come se fosse nello spazio vai veloce dove devi arrivare quando man mano ti avvicina alla destinazione cambia semplicemente la polarità dei magneti periodicamente quindi tu rallenti sempre di più fino ad arrivare piano piano dove devi arrivare e in questo modo potreste arrivare che ne so da Roma a Parigi nell'arco di 40 minuti sarebbe comoda che nessuno vuole andare a Parigi però l'intera Europa diventerebbe periferia una dell'altra quindi potreste andare tranquillamente al lavoro da Milano a Berlino e tornare a casa in meno tempo che ci vuole ora per andare da Milano a Bergamo con questi ovviamente ci sono di mezzo montagne lasciando stare la difficoltà nel costruire la struttura ma invece ora stanno già pentando a tunnel simili quindi ma invece tornando a parlare di attrito in realtà mi viene in mente una cosa che poi mi collega a un'altra roba di Interstellar praticamente una cosa che mi è successa in un corto abbiamo girato noi ma che è successa in scala molto più grande a Matera quest'estate quando hanno girato insomma 007 lì a Matera praticamente che cosa usano gli stuntmen per evitare di scivolare usano la Coca-Cola loro praticamente cospargono di Coca-Cola le superfici perché essendo molto zuccherina e appiccicosa crea questo attrito con le scarpe ed evita di farlo di scivolare è successo personalmente in un corto che ho girato io che ha montato Giovanni in cui lo stuntman Simone doveva correre lungo questo percorso pieno di polvere lui praticamente aveva questo straccio pieno di Coca-Cola e lui ci strusciava i piedi sopra prima di ogni corsa per evitare di scivolare ma adesso vi farò Marco Cioni nei commenti si gli esploderà la testa a Matera per fare le scene con la Stone Martin lì ci sono ci sono i sassi ci sono i sanpietrini no quindi la Stone Martin quelli sono molto molto lisci e quindi le macchine per fare le derapate tendono a volare via ad andare in un'altra contro il muro quindi che cosa hanno fatto per girarle praticamente ogni mattina arrivavano lì con un enorme camion di Coca-Cola con questi idranti e innaffiavano tutte le strade tu provi a immaginare questo dizio che innaffia le strade e poi un po' se la beve un po' innaffia innaffia tutte le strade di Matera piene di Coca-Cola per poter fare le scene con la Stone Martin che quindi poteva andare in derapata senza senza finire contro il muro ma la cosa assurda è che poi perché poi gli americani quando fanno queste cose sono precisi alla fine di ogni giornata ripulivano tutto quanto e il giorno dopo innaffiavano tutto quanto ma questa cosa questa cosa della Coca-Cola sulla strada non cambiava l'aspetto della strada? no perché era semplicemente c'è nel senso una volta asciugata rimane solo poi quella parte appiccicota dello zucchero essenzialmente la stessa cosa vai vai scusami la stessa cosa l'ha fatta Nolan non con la Coca-Cola però questo concetto di sporcare tutto e ripulire con le tempeste di sabbia di Interstellar il problema qual è? è che la sabbia è essendo fina e diffusa nell'aria non è facile da fare con la CGI perché è una roba che cambia proprio l'occlusione della luce ok e quindi non puoi semplicemente aggiungere uno strato di sabbia come per la pioggia magari la pioggia aggiunge uno strato di pioggia davanti alla macchina da presa in CGI è un po' più facile quindi voleva fare a tutti i costi queste tempeste di sabbia reali ci sono questi enormi camion con questi enormi ventilatori davanti ai quali spalavano queste secchiate di sabbia per tutta la cittadina e le nascondevano tra i vari palazzi per fare in modo che non si vedessero e praticamente alla fine di ogni giornata l'intero paese dove giravano le scene sulla terra di Interstellar era ricoperta da questo strato alto così di polvere che allora a fine giornata dovevano comunque mettersi e ripulire per evitare che tutti quanti che tutti quanti si lamentassero perché poi era un paesino vero quindi ci sono alcuni abitanti di Matera che non so come si dice credo i materani perché i materassi non me pare quindi saranno sicuramente i materani che divono che si ricordano questa cosa e che poi appunto pulivano subito perché diciamo lì sono abbastanza infista con tutto quello che è Matera assolutamente e quindi di pulire subito dovevano farlo assolutamente e un sacco di gente che ci dice che questa cosa della Coca-Cola viene utilizzata anche tipo nei campi di pallavolo o in altri posti dove c'è del parquet e magari si deve correre sopra proprio per evitare di scivolare e ammazzarsi in pratica sì 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 questa cosa della polvere tra l'altro esiste quella a cui prende ispirazione esiste davvero cioè quel tipo di tempeste che si chiamano Habub H-A-B-O-O-B se le cercate Habub è un termine che credo sia arabo è un tipo particolare di tempesta di sabbia che si muove come un fronte gravitazionale gravità in questo caso dipende dal fatto che se c'è una montagna di mezzo l'aria ovviamente si sposta intorno alle montagne quindi dipende dalla morfologia del terreno e sono questi fronti giganteschi come un muro di sabbia che viene verso le idee quello che succede in Mad Max Fury Road se vedete quel muro quella tempesta lì è un Habub e fanno molta paura perché sono appunto dei muri lenti che si muovono inusorabilmente coprono tutto e non c'è modo di pararsi o altro devi solo nasconderti sperare che passi e negli Stati Uniti c'è stata una siccità grossa negli anni 30 perché sono successi diversi uno dei più famosi è stato Phoenix e quando loro fanno quella scena in cui le persone scapano per gli americani è un ricordo di qualcosa di successo davvero è come se qui facessero una storia in cui a un certo punto c'è una diga che colassa e tutti qua in Italia penserebbero a Vaillant esatto c'era Vaillant e quindi per gli americani quella scena della tempesta si abbia avuto una risonanza molto molto diversa perché per loro fu una cicatrice culturale forte nei anni 30 dopo la crisi con tempeste di sabbia così che distruggevano tutto e non cresceva un cazzo e molti morivano di povertà si infatti Nolan è partito proprio da un documentario su quegli eventi per elaborare quella scena ha visto una serie di documentari su quegli eventi e ha deciso di infatti quella tempesta di sabbia distrugge tutti i campi di mais che non possono crescere anche se poi come abbiamo detto nel video in realtà quei campi di mais non ci potrebbero essere comunque perché non ha senso che esistano ma questo è un altro discorso c'è una domanda su Interstellar e in generale su che tocca anche un sacco di altri film di fantascienza fra i quali pure Alien che chiedono ma una domanda sempre su Interstellar ma l'ibernazione che loro utilizzano per il sonno può essere cioè può essere reale sarà male perché qua dice come fa ad essere reale ovviamente non lo è però certo certo allora l'idea è quella di abbassare il metabolismo del corpo umano per rallentare tutto quanto rallentare l'orologio biologico e quello che il modo in cui il tuo corpo invecchia lo fanno anche alcuni animali che vanno in letargo letteralmente e fanno così quindi un orso che va in letargo abbassa piano piano il suo metabolismo per tutto il tempo quindi consuma molto meno e gli animali che hanno un metabolismo molto basso possono vivere per molto 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 di più fanno le cose molto lentamente vedi le tartarughe però possono vivere per più tempo la nostra idea era quella di usare il freddo per spingere il corpo ad abbassare molto il metabolismo quindi dal punto di vista teorico non solo è possibile ma viene anche fatto in alcuni casi se arriva un paziente e ha un problema grosso al cuore per cui potrebbe morire nell'arco di se non secondi minuti cosa fanno lo prendono subito lo mettono in una vasca gli abbassano subito la temperatura del corpo così tutto quello che succede nel suo corpo succede molto lentamente e hanno qualche un pochino di tempo in più per cercare di salvarlo ovviamente dipende ci sono strutture non è che succede sempre però ci sono stati casi appunto in cui le persone sono state messe in freddo se non dentro la vasca o comunque gli mettono tipo ghiaccio pacchi di ghiaccio intorno e abbassano piano piano il tuo il tuo metabolismo ora la fregatura con quello con farlo per viaggi spaziali è che ai tuoi organi generalmente non piace molto questa cosa quindi non è detto che il tuo cervello esca bene o il tuo stomaco e fegato anche dopo mesi e mesi in questo stato perché non sono progettati per far quello non è non è stato il loro modo normale di operare quindi esattamente come fare per ogni singolo organo che ha esigenze diverse di rimastere restare allo stesso modo è ancora work in progress e non non significa che non è possibile ci sono l'agenzia spaziale europea ci sta lavorando però probabilmente le cose più credibili per cui credo le useremo saranno periodi molto corti quindi invece di farli per viaggi lunghi tra le stelle a meno che questi non diventino molto rapide però potremmo farlo per qualche settimana quindi per mesi quindi se il viaggio tra cui a Marte dura normalmente sei mesi e possiamo fare che l'equipaggio per cinque mesi e dorme basta quello ci risparmia un sacco di spazio e possiamo metterli in minor spazio perché stanno fermi e quindi poi non devono mangiare non devono esatto quindi invece di avere tanto spazio in cui devono stare gli astronauti ne hai meno ed è completamente protetto e isolandolo e puoi sprecare più materiale per pararli dalle radiazioni problemi o altro e quindi quello potrebbe essere un modo in cui poter fare navicelle più piccole che possiamo spingere più velocemente in cui sono protetti meglio gli astronauti però c'è un altro problema e noi non siamo soltanto noi cioè noi siamo anche le nostre colonie di batteri ma voi se volete mangiate qualcosa e la digerite non è grazie a voi che siete fighi è grazie a tanti batteri che vivono nel vostro intestino che fanno molto del lavoro per voi quindi se quei batteri non arrivano vivi insieme a voi a destinazioni siete fregati perché poi dopo non riuscite a digerire quello che mangiate quindi vi basta dire vabbè prendo i fermenti lattici eh ma quei fermenti lattici quella cosa viva dove vi è? come sta? come se ti assicuri che i fermenti lattici sono efficienti anche quando arrivi a destinazione non è facile non abbiamo idea di come poter rifare questa cosa una delle idee su cui si sta lavorando e che viene fatta anche in ospedali sono impianti di cacca allora è molto meno peggio molto meno terribile di quelle che sembra però è un po' fa ridere però si fa ridere ti prendono un po' di cacca che è piena dei batteri che a te ti servono e sono specifici per te basta quindi non è che i tuoi batteri la tua flora batterica è unica è solo quella di Mauro per dire allora quindi quella di Mauro la prendono la tengono lì quindi tu c'hai la tua cacca arrivi a destinazione è più facile magari contenerla e mantenerla viva per tutto il tempo ti prendono la cacca e te la rimettono su nell'intestino e danno il tempo ai batteri di ripopolare il tuo intestino e quindi in teoria potresti di nuovo digerire le cose e felici tutti felici i batteri e felici te quindi sarò contento quando vedrò gli astronauti nel prossimo film di Nolan prima andare al bagno prima di creogenarsi e mettersi la cacca da una parte tra l'altro ovviamente nella chat molti dicevano e questo lo sappiamo tutti che con gli organi lo fanno già c'è quando ci sono i trapianti di organi eccetera gli organi vengono trasportati in diciamo scatole frigorifere c'è le frigorifere in segnatura proprio per fare questo per congelarli la fregatura più grossa è per il cervello perché ovviamente è molto più facile con un muscolo come il cuore rispetto a qualcosa di incredibilmente più complesso come il cervello quindi al momento non siamo sicuri di come potrebbe viverla un intero corpo umano cervello incluso che ci serve per gli astronauti e questa cosa è una delle prime cose che mi sono chiesto guardando Interstellar cioè quando parte tutta la parte a parte che quando c'è Michael Caine che spiega cose vestito in giacca e cravate e si apre una roba segreta di una caverna dai sei altra c'è paresemente altra esatto hai una caverna segreta tra l'altro Michael Caine dice di aver provato a parlare tipo 10 minuti con Kip Thorne che comunque era la persona che gli scrive tutte le equazioni sulla lavagna ci ha parlato 10 minuti lui ha iniziato a parlare di buchi neri e questioni che lui poi scriveva sulla lavagna e Michael Caine ha fatto finta di ascoltarlo per il resto del tempo perché semplicemente non ci riusciva penso che Kip Thorne abbia il problema l'ho visto fare questa cosa anche con altri che stima così tanto l'attore che è davanti che pensa se io mi trattengo e te lo spiego un po' alla meglio sarebbe mancanza di rispetto verso di te perché me lo spiego come un qualsiasi io sono Michael Caine quindi l'ho visto credo perché pecca appunto di troppa stima nei confronti dei altri Mauro mentre che tu ti prepari l'altra cosa su Interstellar c'è una cosa che in chat stanno chiedendo in realtà manca un quarto d'ora alla fine di questa live però c'è una cosa che stanno chiedendo in continuazione che ogni volta che ci lascio l'occhio vedo scritto ricche e morti ricche e morti ricche e morti qual è cioè quella è la base so che è fuori tema si sta parlando Interstellar e di viaggi ma la chat te lo chiede in continuazione quindi ovviamente te lo dobbiamo chiedere in inglese l'espressione migliore credo che sia quella di not my cup of tea ok nel senso non è che non capisco la peel o quanto sia bello è che non è il tipo che risuona con me è più come i gusti musicali quindi ci sono persone ci sono generi musicali o band che io stimo tanto fanno una musica meravigliosa però non succede niente a livello di qui e quindi se sono da me magari non ascolto quello ma se poi dopo passo qualcuno l'ascolta apprezzo tanto quindi in questo caso ricche e morti non mi ha fatto gridere nel modo in cui speravo perché proprio non è perché è una mancazza di ricche e morti è che a me non piacciono molto le battute che nascono e finiscono nell'arco di secondi che servono soltanto a far ridere le gag no? che sono sì e dopo dopo un po' cioè mi piacciono di più le serie che hanno un crescendo verso qualcosa in cui la comicità non si basa su quello che viene detto sul micro sketch ma è più costruita quindi ci sono momenti in ricche e morti che hanno cose più costruite che sono quelle che tra l'altro vedo che i fan ricordano più spesso si ricordano le gag che sono più memorabili perché c'era molto più dietro quindi ci sono tanti momenti epici però tipo per esempio a me fa lo stesso effetto Big Bang Theory perché si ride del fatto che sono nerd loro fanno spesso conversazioni che non me ne parlare ti prego la gag è che nessuno capisce e quindi fa ridere perché guarda hanno scritto cose che nessuno capisce però mi sembra più di ridere fisica esatto con i nerd mentre ho continuamente questa sensazione che sia un po' una presa in giro del fisica nerd per tante stagioni dopo un po' non lo so ma mi ha faticato un pochino The Big Bang Theory l'ho apprezzato di più ed è quello cioè tu non ridi con i nerd ma ridi di loro assolutamente cioè si basa su quello su ricche e morti grazie non mi sento solo no io invece al contrario io ne vedo io lo vedo almeno un episodio al giorno proprio così per penso di saperli tutti a memoria perché a parte che c'ho il mio il mio coso lì lo zerbino cioè il mio zerbino c'ha scritto come in and get thrifty che ci sono tante cose meravigliose dentro l'uriverso di no ma infatti la questione è che poi al di là di questo al di là poi della preferenza penso che quello che volessero sapere in chat effettivamente ricche e morti ha un certo culto del lato scientifico nel senso ovviamente si prende migliaia di libertà però come serie animata fantascientifica prende molto spunto da teorie verosimili sì 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 da questo punto di vista per certi aspetti con molti limiti ovviamente è un po' l'erede spirituale del modo in cui giocava con la scienza Futurama madonna Futurama ma che bello l'hanno messa adesso su Prime ma li sto riguardando un tot di episodi che sono davvero a memoria Futurama è molto più by KFT cioè è molto più come ha risuonato molto molto più tempo perché è basato appunto sui personaggi che sono abbastanza elaborati nel tempo da farti ridere anche senza dover fare gag quindi fanno ridere per quello che gli succede come il modo in cui succede però non è basato solo sul fare la battuta però di nuovo non c'è niente di male nella battuta ci sono un sacco di battute bellissime in Enrico Mortier solo che con me non hanno funzionato però Futurama ha quell'approccio molto più standard alla fantascienza in cui in realtà è una critica degli anni 2000 ambientata degli anni 3000 perché poi di fatto ogni episodio ogni espediente narrativo fantascientifico di Futurama non è altro che un modo per prendere in giro come vivono le persone nel 2000 che poi è il momento cioè tutto l'episodio quello lì in cui in cui loro devono lo ho visto da pochissimo quello in cui loro hanno lanciato via l'enorme palla di immondizia e gli sta tornando indietro e quindi fra i che viene dal 2000 insegna a tutti quanti a creare nuove immondizia perché nel 3000 non sanno più fare l'immondizia no? è quel tipo di mentre invece ricche e morti è molto più basato su quel quel tipo di fantascienza che invece parla del problema della persona alla fine quello molto affascinante di ricche e morti è Rick è Rick che è questo no? personaggio mega mega funzionale che però poi in realtà si fa scudo della propria del proprio sapere per per non far vedere di essere estremamente solo ed estremamente felice sì sì da questo punto di vista è cioè è una delle serie con più complessità dietro dietro il personaggio all'apparenza non non rende l'idea di quanto è complesso poi dopo quando lo vedi per tante stagioni questo sì questo è assolutamente vero Mauro c'hai qualche altra perla di Interstellar da discutere con Adrian? sì anche se non è non è niente che cioè sono un paio di cose sulle sulle sull'endurance sulla che sarebbe la la base la base esatto è praticamente tutto l'interno è fatto di vecchi pezzi di aeroplani e vecchi pezzi di di navicelle della NASA perché praticamente il punto è che non ci sono più soldi per l'esplorazione spaziale e quindi lo scenografo voleva dare questa questa idea del fatto che si riusa tutto e quindi tutta l'endurance è costruita di vecchi pezzi di altre navicelle della NASA vecchi pezzi di aeroplani di cose del genere e l'intero interno è funzionante cioè le sedie si aprono tutte le sedie che escono dal pavimento e le lavagne che escono dai muri e tutto quanto effettivamente funziona ci sono addirittura 14 porte pressurizzate che funzionano radiocomandate cioè con un tasto quelle porte effettivamente si aprono e tornando alla questione della camera IMAX normalmente quando si gira all'interno dei di teatri di posa si tende a fare i sets montabili in modo che se io devo fare il primo piano del protagonista che sta guidando la navicella e davanti a lui c'è semplicemente il vetro della navicella come faccio a farlo? quel pezzo viene via e mi ci posso mettere davanti hanno cercato di non farlo in interstella perché volevano dare effettivamente questo senso di claustrofobia e quindi hanno messo la macchina da presa solamente in punti dove fosse effettivamente possibile mettere la macchina da presa e quindi proprio per dare quest'idea di siamo davvero qui dentro con la macchina da presa non possiamo uscire fuori e tutta quella roba gargantua il wormhole eccetera eccetera li hanno fatti prima per poi poterli proiettare quello non è green screen fuori dalla navicella non c'è il green screen sono sono teli fondali su cui vengono proiettate delle immagini già renderizzate in modo che gli attori avessero qualcosa da guardare piuttosto che semplicemente green screen per poterli aiutare nell'interpretazione insomma che non è che non è poco in casi del genere perché ti trovi normalmente a guardare il nulla per ore e ore e uno ti dice allora immagina questa cosa in cui praticamente c'è questo cerchio che però poi per via della gravità sta anche davanti sta anche sopra sta anche sotto e tu fai eh come dove ci sta Lucky Rax che chiede sempre sull'Interstellar una cosa che può essere interessante dice l'esplosione che usano per scampare dal buco nero al buco nero è accurata cioè è un'ipotesi corretta oh no no mi dispiace è una cagata atomica sì l'energia che ti servirebbe per andare via da lì è spaventosamente grande quindi no e poi le esplosioni non hanno un mezzo in cui possono propagarsi quindi è ancora più complicato andartene ecco perché un'esplosione ti spinge perché è vuoto in mezzo quindi è il motivo perché non si sente il suono se non c'è aria tra noi due e c'è un'esplosione l'unica cosa che verranno verso di me non sarà l'onda d'urto perché in che si muove arriveranno i pezzi di materiale che ti colpiscono quindi se esplode qualcosa vicino a te nello spazio hai solo schegge che ti pongono la navicella da tutte le parti e te la distruggono ma non hai un'onda che ti spinge verso a meno che in realtà c'è una sola eccezione che puoi sentire il suono nello spazio il trucco è se tu sei fuori nello spazio fuori dalla navicella e dentro è piena di aria e la navicella esplode l'aria quando esce fuori non fa in tempo a disperdersi così velocemente da non permetterti di sentire nulla perché la velocità con cui si disperde è alta però faresti in tempo a sentire un pochino dell'esplosione quindi puoi sentire qualcuno gridare nello spazio se quella persona che grida sei tu accanto all'esplosione e dentro una vicina vicina a una vicina personizzata quindi possiamo tradurre possiamo tradurre nello spazio nessuno può sentirti urlare tranne te stesso all'interno di un'esplosione sì così può essere interessante c'è anche dietro che chiede la gravità artificiale all'interno della stazione che si genera in base alla rotazione quanto è fattibile dal punto di vista fisico anche questa piace un sacco ai registi di fantascienza perché immagino che semplifica molto le cose non dover fare le cose in sostanziale sì però si vede in tantissimi film questa storia che a un certo punto fanno girare qualcosa e la gente cammina ci sono diversi problemi con questo ora tecnicamente è vero perché se tu sei in una macchina per esempio ti senti spingere sul lato quando sei in una curva per la forza centrifuga è un gioco tra centripeta e centrifuga il modo in cui ti muovi dentro le curve però fatto stacca tu ti senti pigiato su un lato se tu costruisci un anello gigantesco che si muove a una velocità abbastanza alta tu verrai schiacciato verso il fondo di questo anello e puoi farlo in modo che sia esattamente come se erano in una gravità quindi senti un'accelerazione gravitazionale verso il basso cioè l'equivalente di un'accelerazione gravitazionale e fin qui tutto bene quindi significa che puoi camminare però non è la stessa cosa ovviamente quindi questa dipende dal quanto sei distante dal centro intanto significa che se tu ti avvicini al centro questo effetto sparisce più ti avvicini meno c'è per cui tutto sto giochino dentro le navicelle funzionerebbe solo sul bordo quando io vedo navicelle che hanno un cerchio che ruota intorno e loro camminano in mezzo non ho abbastanza mani per i face pump e non puoi camminare lì galleggi sono lì non c'è nessun motivo perché la cosa in cui si vede questa è passengers passengers hanno dei anelli giganti che non servono niente sono estetica poi dopo a un certo punto spengono e accendono la gravità con un pulsante se sparisce la gravità è perché gli anelli non si muovono però se riprendono devono arrivare a piena velocità e quelli sono enormi quindi non c'è nessun modo fisico per accendere e spendere la gravità idealmente non si può e allora ci si può lo puoi fare però appunto è complicato perché senti la differenza tra la testa e i piedi per cui per esempio se tu cammini sul fondo di questa ruota e la tua testa è più vicina al centro quindi se non è sufficientemente grande tu se ti abbassi per legarti le scarpe e ti rialzi sentirai una differenza di gravità tale per cui le tue orecchie il tuo organelli nelle orecchie servono per l'equilibrio non che esplodano le orecchie perdi l'equilibrio vomiteresti di continuo in una cosa del genere perché non senti la gravità se ti senti una differenza continua di accelerazione intorno a te e non solo se tu immagina che la ruota va in senso orario così e quando la ruota gira se tu cammini in senso anti-orario abbastanza veloce tu hai zero gravità quindi in una di quelle ruote se tu sei in uno di quei scenari tu corri per avvisare il tuo capo che sta arrivando che ne so gli alieni e quando corre in senso anti-orario tu galleggi perché è compensato la rotazione l'hai tolto l'effetto e quindi via è galleggiato quindi giusto per capire è una cosa che si sono inventati dal punto di vista cinematografico giusto perché a una certa c'è l'esigenza di far camminare gli attori o comunque sedere gli attori è una di quelle cose che se non ci pensi abbastanza tempo funziona ma appena inizi a darci un minimo di ragionamento è vero è vero che troverai tanti scienziati anche ingegneri che ti diranno che si può far funzionare una gigantesca per cui anche se corri non correrei mai abbastanza per compensare puoi trovare ma a quel punto diventa talmente dispendiosa talmente grande che diventa difficile giustificare il costo cosa ti servirebbe ti servirebbe per stare più comodo non c'è senso gli astronauti se tu chiedi per esempio quelli che lavorano alla NASA quelli che ti diranno in generale le agenzie spaziali il motivo per cui non lo facciamo sulla stazione spaziale è perché il bello di andare lì è che non funzionano le cose come qui funzionano diversamente puoi fare anche tutti gli esperimenti si e se prendi un cristallo in 0G si forma in maniera perfetta perché non ha i problemi che ha qui fibre ottiche che abbiamo fatto stampare nello spazio permettono una velocità che qui una densità anche di fasce di luce che qui ci suoniamo puoi mandare petabyte di dati in una singola fibra ottica senza errori quindi secondo me il prossimo grosso passo sarà costruire anche farm delle fabbriche fabbriche per fare fibre ottiche molto avanzate direttamente allo spazio le porti qui cose del genere quindi non vedo molta utilità per forza costruire cose che se vuoi compensare far sentire la gravità gli astronauti per l'effetto fisico più che una ruota conviene avere una slitta una lunga slitta di qualche metro che attacchi la navicella in cui le acceleri su e giù su e giù su e giù questa accelerazione senza bisogno di cerchi loro sono fermi lì fa sentire il loro corpo come se fossero come se in ascensore ti senti spinto verso il basso se tu sali molto velocemente con l'ascensore ti senti spinto verso il basso certo fai una cosa del genere per cui vai su li giri vai giù li giri vai su e loro si sentiranno questo effetto addosso hanno l'equivalente di sentirsi in gravità mentre stanno leggendo un libro e stanno lì per 3-4 ore il loro corpo si è sentito spinto come se fosse in gravità i loro muscoli e le ossa quindi possono stare bene poi quello è il problema la trofia dei muscoli è l'unico motivo per cui servirebbe la gravità artificiale che appunto c'era Parmitano che diceva che fra i vari viaggi che ha fatto nello spazio si era allungato di qualche centimetro sì Nespoli quando è andato nello spazio lui è già alto più di un metro novanta e qualcosa già molto alto ti fanno la tuta e il casco personalizzato lui si era allungato nello spazio a sufficienza che il casco non era sigillato perfettamente non li centrava perfettamente quando l'ha rimesso addirittura raccontava che gli hanno fatto scrivere il fatto che lui si prendeva le sue responsabilità a tornare a casa con un casco che non era esattamente perfettamente in questo senso quindi come se fosse colpa sua tra l'altro ragazzi noi nani abbiamo trovato per quelli sotto sul metro e settanta abbiamo trovato la soluzione per essere più alti e andare nello spazio per un po' e tornare leggermente più alti io sono sull'uno e settanta essere un'ottanta non mi dispiacerebbe vado sullo spazio per un po' di tempo e mi allungo se stai sdraiato la mattina quando ti svegli comunque le tue ossa sono leggermente più di muscoli che si è leggermente più alto e lo problema è che poi però mi alzo e torna non ti alzare è quello il segreto ragazzi non alzate più mai dal letto mi dicono che sono perfetto così lo so grazie voglio bene Mauro tu c'hai altro no no chiudiamo sono pasto le due ore c'è solo una cosa siamo a un'ora e cinquantotto Adrian io ti devo chiedere una cosa perché io nelle live sono sempre molto amico della chat e la chat da due ore oltre che ricche e morti scrivono dark 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 sì 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 ragazzi per contratto non si può dire dark si deve forza dire dark esatto si deve dire in questo modo quindi è molto bello sono molto molto entusiasta dell'arrivo della nuova stagione penso che sia una delle stagioni credo sia una delle serie di fantascienza più belle dei ultimi dei ultimi anni e rosico un sacco che in Germania possono fare serie di fantascienza così belle e tipo per lo stesso budget qui noi no abbi fiducia in noi abbi fiducia in noi Adrian lo so ma a me piace moltissimo mi piace il modo in cui hanno giocato sia con i personaggi che con i problemi che crea il viaggio nel tempo quindi già per esempio la prossima volta che fate scrivete un documento e fate avanti e indietro no tipo stai scrivendo un documento ti rendi conto che hai sbagliato fai annulla o stai facendo un montaggio di un video fai annulla torni indietro annulla 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 poi dopo modifichi quello che volevi fare poi se ci fai caso in buona parte dei programmi non puoi andare di nuovo avanti certo e questo è esattamente come l'equazione viaggio nel tempo se tu torni indietro e hai modificato qualcosa quella timeline è sparita quindi quando fate scrivete documenti cancellate cose state letteralmente cambiando timeline temporali in universi scrivendo la scienza di narca ragazzi attenzione almeno così rende più divertente fare montaggio o anche cancellare cose quindi anche solo una nulla può avere implicazione esattamente la stessa cosa ci sono alcuni programmi che ti mostrano anche gli alberi possibili quindi tu puoi tornare indietro modificare un documento e ti crea un'intera nuova timeline che tu puoi scrivere ma mantiene anche come in un albero mantiene anche il ramo precedente quindi puoi prendere pezzi che avevi già scritto e appiccicare quindi quello sarebbe più simile a quello che succede per esempio in qualcosa come ritorno al futuro però se noi tornassimo se tornate indietro nel tempo intanto vi consiglio tantissimo non tornate prima dei dinosauri perché è un casino è un casino perché voi ignorate il fatto che l'aria era diversa non fate come Albano e non è così scontato che potete respirare intanto perché la composizione dell'aria cambia poi l'altro problema è se tornate tipo nel Medioevo metti che tu hai una bella fanciulla c'era un intero film di fantascienza dedicato a questo con un gruppo timeline esatto e finiscono indietro nel tempo e la prima cosa che ho pensato io vedendo quel film è stato ora muoiono tutti di disenteria muoiono perché era talmente cioè il nostro fisico nel tempo si aggiunge barriere immunologiche per proteggerci da malattie quindi se una del Medioevo bacia uno di oggi si passano una quantità di malattie per cui morirebbero entrambi malissimo quindi non baciate gente del Medioevo non è il caso non è il caso se potete se potete portarvi una sola informazione da questa live è questa nel caso tornate nel Medioevo non baciate nessuno esatto dovete mettere sempre della cacca con voi che non si sa mai che non si sa mai Adria noi ti ringraziamo tantissimo ragazzi sono passate due ore Adria è qui che chiacchiera vabbè che lui ci ha abituato perché le sue live sono pazzesche incredibili io spero che abbiamo risposto abbiamo cercato di diciamo rispondere alla chat più che si poteva ci sono un sacco di domande che hanno fatto su varie serie varie film hanno toccato Avengers hanno toccato però ragazzi non possiamo stare qua 24 ore facciamo un'altra live in cui Adria risponde a tutte le vostre domande su tutti i viaggi nel tempo di tutti i film quando volete chiamatemi io sono sempre disponibile ringrazio nuovo xdevils92 cioschio stasera sono state regalate ai nostri utenti più di 60 abbonamenti ragazzi siamo sulla settantina di abbonamenti regalati solo questa sera che per me è una cosa pazzesca vi ricordo che Adria per chi non l'avesse mai conosciuto per chi non aveva avuto la curiosità di andare a vedere il suo canale youtube link for universe giusto? si che è il suo canale youtube chiedo ai moderatori cortesemente di rimettere i link sia del canale youtube che del canale twitch che ha aperto da poco dove Adria che intenzio cosa farai su twitch farai la stessa cosa guarda intanto so già quale sarà la prossima live mi piacerà seguire i lanci c'è un lancio di un nuovo falcon 9 si sempre da da che canaveral parte il dallo stesso posto da cui è partito questo parte il 4 ora tra 3 giorni tra 3 giorni partirà con si con 60 satelliti che saranno visibili a occhio nudo poi anche dall'italia partirà alle 3 e 25 di mattina quindi io dalle 2 inizio la live per coprirlo ora lo so che saremo due gatti prometto di non rompere più niente su twitch sono nuovo che di rompere non rompere niente però insomma passerò una roba notturna però regolarmente a parte questi casi di eccezionali mi piacerebbe fare delle live in cui parlare di esplosione spaziale divulgazione usando anche giochi c'è un gioco che si chiama planet base in cui puoi creare una colonia e quindi vorrei creare una colonia e parlare delle difficoltà reali di vivere su un altro pianeta oppure Kerbal in cui faccio esplodere razzi quindi quella più semplice e quando arriverà finalmente dopo tanti anni Cyberpunk 2077 si non vedo l'ora mi piacerebbe giocarlo in streaming per raccontare la storia della fantascienza del genere cyberpunk quindi di raccontarvi che cliché hanno usato quali pezzi di libri che riferimenti libri hanno usato dietro i vari personaggi dietro le varie storie ragazzi Giovanni sta facendo seriamente vacillare la mia eterosessualità vai avanti non succede mai no dicevo ho visto che è arrivata una donazione è arrivata una donazione di un euro e cinquanta da Pexatar un attimino che leggo il messaggio che dice dono un euro alla sbadilata di cultura di questa sera e cinquanta centesimi per scusarmi con Giovanni per settimana scorsa ma dai ti devo scusare di niente allora approfitto di questo finale di live per ricordare tutti i nostri prossimi appuntamenti ovvero questo mercoledì opinioni pericolose questo venerdì non c'è il video sul canale ma ci sarà venerdì prossimo ci rivediamo ovviamente lunedì prossimo e mercoledì prossimo inoltre vi faccio un piccolissimo annuncio ho aperto anch'io un canale Twitch perché se ne sentiva il bisogno perché tanto nel senso che ce l'abbiamo a fare Twitch e faccio la prima live domani sera alle 21 e 30 quindi sarà un podcast sul cinema in cui analizzerò un po' le notizie dal punto di vista di chi questa cosa cerca di farla piuttosto che da qualcuno che la fruisce quindi insomma vi lascio il link nella chat spero che qualcuno lo acchiappi e lo Adrian mentre che Mauro lascia il link del suo canale l'ultima cosa proprio ultima ti giuro e chiudiamo il tuo non ti posso chiedere il tuo film preferito perché non si chiede il tuo film preferito però dal punto di vista fantascientifico un film che vedi e rivedi con molto piacere qual è sono tentato di dire The Martian perché però ne abbiamo già parlato quindi quello sarebbe se devo consigliarvi però un film di fantascienza che secondo me è molto 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 bello e che si meriterebbe una rivista ora è Contact è veramente bello tra l'altro visto che siamo in tema con Interstellar c'è Matthew McConaughey è uno dei personaggi principali insieme a Jodie Foster Jodie Foster esatto non mi viene a me Jodie Foster è il film di Zemeckis di qualche anno fa adesso è molto bello è molto bello perché poi dopo la scieneggiatura è scritta con si basa sul racconto di Carl Sagan che abbiamo nominato prima è molto bello perché parla di esseri umani in una storia di contatto con gli alieni e di come noi viviamo questo impatto quindi se davvero ci fosse la possibilità di incontrare gli alieni vi siete mai chiesti se possiamo mandare una persona chi mandiamo che tipo di persona è certo dobbiamo mandare comunque una sola persona ma come facciamo a sceglierla chi la sceglie chi si prende questa responsabilità chi è la persona che ci rappresenta più che altro che opinioni deve avere perché tutte le persone avranno delle opinioni sulle cose quindi immaginatevi il casino che può succedere nel film se mandi una persona che non crede in Dio rispetto a una che si crede in Dio e questo è solo una delle piccole cose che sono delle piccole grandi cose che sono e vi consiglio Contacts perché in un mondo così social in cui dibattiamo così tanto se succedesse qualcosa del genere internet esploderebbe secondo me con polemiche in chat dicono possiamo mandare Marco Cioni ma ragazzi se mandiamo Marco Cioni è troppo alto a parte Marco Cioni è troppo alto non entra dentro la tuta ma la terra verrebbe invasa e distrutta dopo due secondi perché dicono se questo è il meglio che ci avete da mandarci tanto vale spazzarvi via dall'universo quindi ragazzi Marco Cioni grazie ancora dimmi aggiungo soltanto che visto che sono tantissime domande se volete chiedermi qualcosa potete sempre scrivermi su Instagram seguirmi su Instagram perché su Instagram posto poi dopo anche un sacco di risposte a voi direttamente in stories o altro quindi seguitemi lì che è la cosa più veloce mi scrivete le domande e prometto che cerco di rispondere a più di voi il tuo Instagram è adrian adrian fartate è il stesso nome che vedete qui sotto adrian fartate lo vedete qui chiedo sempre ai moderatori la cortesia di mandare il link di mandare il link in chat adrian ragazzi segnatevi tutti è stata una serata per quanto mi riguarda incredibile incredibile veramente grazie di qua grazie grazie veramente tanto di essere stato qui ragazzi ricordatevi di camminare tanto e soprattutto camminate tanto però non tornate mai indietro perché sennò poi è un panico sempre in una direzione se c'avresti anche una teoria per convincere i bambini a mangiare le verdure potrebbe essere una cosa interessante per la prossima live allora me la tengo perfetto niente grazie a tutti i ragazzi vi ricordiamo domani sera c'è la live sul canale di Mauro che si chiama Zero Skills lo trovate zero s k i zero 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 skills con la z perché sono un quattro vero e noi ci vediamo mercoledì sera con opinioni pericolose ci sarà un ospite non ci sarà un ospite non lo so magari ci sarà adrian magari no adrian arriverà prima o poi penso poveretto non lo possiamo massacrare ma prima o poi arriverà grazie mille ragazzi buonanotte a tutti a tutti e noi ci vediamo Grazie a tutti.